Buonasera, ragazzi. Francesco. Ti sta parlando Michele. Questa introduzione non può essere fatta da sceglie. Non puoi sentirla. Ti mancano gli occhi della mente. Quelli che ha cercato di ottenere Willem senza metamorfosi. Ci ha riuscito su quella sedia? Sentiva qualche voce? Sentiva. Riusciva a fare più che inscrive Rune, come Karyll. Hiro, ora, è già miracolato nel suo talento e nella sua nuova intuizione, nel riuscire a sognare ciò che ha vissuto, reinterpretarlo, riascoltarlo. Stasera non sentirai la voce di Sheni. Né tu né lui. Ma c'è un modo per farlo. Esiste davvero? Who è Cut Content? Ha anche il poter avvicinarsi al nostro roleplay. Detto ciò, oggi, a 9.000 km, avrei delle scelte, vere e proprie decisioni dal giocatore. E non vedo l'ora di offrirtelo, perché potrai decidere una nuova forma di strada hardcore da intraprendere. Ho dei gliffi qui con me, che potrebbero essere considerate Rune da dare a te. Quale sceglierai, cambierà la serata. E quindi, non vedo l'ora di darti io qualche occhio per la mente. 3, 2, 1, sigla. Benvenuti fra le lande dentro un regno del sangue Che tramuta mute d'anima in creature e manna Cieli cupi sulle lame di una luna calante La paura ti consuma, tracchi, bugie e manna Cacciatori di Anna, nelle notti di caccia Nella marcia mille torce, una via Lattea nel buio C'è una traccia più arcana, nella piaga fantasma Basta un ascia più un po' fiuto e un'arma calda al mercurio La piana dei mutanti, sale il tappo fra i calanti Salgoncanti in mezzo ai campi, in mezzo ai lampi, broccia una bazia Proteanti sugli umani, fra giganti, più licantro, più raccantano una letanea Ora tu dimmi quanto duri, quante lune a mani nude Un'ecco cieca di memorie, vive dentro le arti oscure Nuovo nome dei rivali, nuova luce, vecchi artari Le creature senza corpo chiamano le nuove rune Grandi esseri del fatto, qua elevati a un sogno fatto Nuovo sangue rattresceso e mille limiti lili Fatalessi dello spazio cercano figli e nuovo fiato Per creare nei suoi geni nuovi spiriti simili Rotta contro il grande male, lotta nella cattedrale Il cuore della grande madre, brucia tutto in un colpo Dentro il sangue umano, forza ultima ancestrale Solo un incumo al curare, oppure frutto di un sogno Il sangue comanda quando brucia nel vuoto Prende vita nel rugo di una melodia La incanta, cerca pace nel fuoco Cerca vita nel luogo, strogo un uomo di Signori, con una camera che si è rispenta di nuovo Ma io la accenderò più potente che mai Buonasera a tutti E da New York Buonasera maestro Tra poco mi dovreste vedere, ve lo giuro La camera ha resistito veramente poco Wow Sì, ma non so Allora, in realtà la situazione è bellissima Io sto streammando dall'altra parte del mondo Sono in una sala LAN Che credo abbia solo qualche piccolo problemuccio di overheating Con la telecamera Quindi forse ogni tanto dovrò spegnere e accendere Però al netto di questo si gode Quindi buonasera a tutti E benvenuti in un nuovo episodio di Bloodborne Da me, per chi lo chiede, sono le 4.43 di pomeriggio Che pazzia Quindi completamente diverso Ovviamente, amici, non c'è lo stesso setup Quindi non c'è la stessa camera Magari l'audio sarà leggermente meno fico di quello solito Ma di molto poco Però si fa quel che si può In realtà c'è un miracolo che siamo in streaming così Dunque Ti ricordo Credetemi Rispetto Prego, prego La diretta che hai fatto per Mario Kart Cioè Guarda che l'estero è sempre un terno all'otto Però lì con Mario Kart ero veramente con un portatile Con i Criceti Che andavano Che andavano dentro il computer E una webcam Però Per il resto Qui siamo in una sala LAN Una sala LAN Che ho scoperto organizzare un sacco di tornei di Pokémon E di Smash Bros Tra l'altro A quanto ho capito Quello dico ai miei soprattutto Perché non credo tu lo conosca Questo è il posto Completamente a caso Me l'ha detto il tizio prima che ci lavora Ok Dove Wolfie Glick organizza i tornei Che è tipo uno dei campioni mondiali di Pokémon E infatti è pieno di peluche Pokémon in giro Ma è totalmente random Non è stato selezionato per questo Ma solo perché era vicino all'hotel Ragazzo mio Siamo qua Cioè Stiamo veramente streamando Guardate ragazzi Cioè Sarebbe stato così umano Dire raga Dai È all'estero Saltiamola una live No Eccoci New Game Plus Non si può fare New Game Plus Ve l'ho detto L'unica cosa Se ogni tanto mi rendo conto Che la telecamera Ha un mancamento In realtà ne avrei un'altra Molta più brutta Molto più brutta Che posso attaccare Se eventualmente Da problemi Però Vedo che fare on off Funziona Al massimo lo faccio Quattro volte in tutto lo streaming Cinque volte in tutto lo streaming E Va bene così Detto questo Vi chiedo Solo una cortesia Se doveste sentire Delle Differenze Tra l'audio mio E l'audio di Mike Magari il gioco basso Segnalatemelo Perché così Sistemo Purtroppo essendo Senza il mio mixer Non riesco a sentire bene Tutti quanti i livelli dell'audio Quindi più del solito Vi dovrò chiedere Di essere attenti Anche all'uscita Audio video Dello stream Tanto poi La prossima live È venerdì prossimo Quindi stiamo tranquilli Pronti Mi senti sì? Io da dio No no Visto che comunque Mi rendo conto Che 9000 km Non sono pochi Aspetto quel Secondo e 20 Di attesa Lag Per poter rispondere A certe cose Così non ti interrompo Ma ti sento benissimo Alla grande In teoria Non dovrebbe esserci Lag audio video Credo Cioè trametti Perché ok che siamo Connessi da due parti Molto diverse No no Ormai siamo Con infrastrutture migliori Però Io percepisco Una differenza Rispetto a quando Sei a casa tua Con la nostra comunicazione Sei piccola Ma Visto che Lavoro tanto Nel video editing Ho sentito Ma poco 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 Però Eccoci Eccoci Il maestro È sempre attento Anche A questo No ma raga Poi Gli posso raccontare L'aneddoto del gioco? Certo Siamo stati in chiamata Da un po' ragazzi Noi Sì Noi siamo in chiamata Da un'ora Perché Io Ovviamente Ho vari impegni qua In quanto Sì A parte che Mike Vede 240 fps al secondo Questo lo sapevo già Ed è per questo Che collaboriamo insieme Esatto Dicevo Ho vari impegni qua Anche perché domani Questo lo racconto anche a te Noi seguiremo La cavalcata dell'italiano Che si è qualificato Alla finale mondiale Di questo Di questa iniziativa Su Street Fighter 6 Da parte di Red Bull Praticamente ci sono le leggende Cioè c'è Justin Wong Ok Quindi sono le leggende Del videogioco Della serie Street Fighter Nel nostro albergo Che si allenano Hanno anche fatto una cosa incredibile Mike Che se tu fossi qui Sarebbe stato pornografia Dentro l'hotel Hanno allestito Una training room Per i giocatori Quindi C'è una stanza Piena di Playstation Dove tutti i giocatori Stanno labbando fortissimo Da ieri Ti incontrano Si scambiano opinioni E quindi è proprio stato allestito L'hotel Come una sorta di dojo Del videogioco Molto molto bello E quindi Insomma Vari impegni del caso Ci sono dei giornalisti Anche italiani Che faranno delle interviste A tutti quanti i giocatori E quindi io stamattina Sono stato impegnato In varie attività Poi però Una certa Ho detto vabbè Devo andare alla sala LAN Sono venuto qui Un'ora e mezzo fa Better safe than sorry Avevo paura Che ci fossero magari Dei problemi Che in realtà poi Alla fine Non sono stati così grandi E l'unica cosa Che mi spaventava Era scaricare Bloodborne Perché io Non sto giocando Alla mia Playstation Qui è pieno di Playstation E quindi ho semplicemente Loggato il mio account Mettendo il solito Salvataggio in cloud Che noi usiamo Per scammare Cioè per scammare Miyazaki E resettare le cose Però oggi L'ho usato in maniera propria Cioè Scaricare il salvataggio Di casa mia E ho detto però Devo scaricare Bloodborne Speriamo che faccia in tempo Quindi Sono venuto qui E il ragazzo E la LAN mi fa No ma guarda che Bloodborne Ce l'abbiamo Hanno tre giochi Street Fighter Tekken E Bloodborne Incredibile È una cosa veramente strana E tra l'altro Non gli era stato richiesto Bloodborne Quindi è un caso Che ci fosse già Dentro questa console Lo scarico Cioè lo apro Carico il salvataggio E non funziona Non mi prende il salvataggio Una partita Panico Io In fiamme In questa sala LAN Pensando A come cazzo si fa Perché non mi sta scaricando Il salvataggio Forse l'ho uploadato In maniera sbagliata Ho avviato l'applicazione E ho visto Che era In inglese Era tutto in inglese Allora ho detto Fammelo mettere in italiano E ho visto che l'italiano Non era neanche selezionabile E allora lì abbiamo ragionato Siamo tornati ragazzine Esatto Siamo tornati Alla buia epoca NTSC PAL Ecco Non è che questa è l'applicazione americana Quindi non ha dentro Il doppiaggio italiano E il linguaggio italiano Anche solo nel menu I sottotitoli E quant'altro E quindi i salvataggi Hanno Come dire Un'identità diversa A seconda Bravo Allora Ci sono volute un po' di palle Ci siamo guardati in faccia A 9000 km di distanza E mai che abbiamo cancellato Il Bloodborne Che c'era in questa PS5 Riscaricandolo da capo E ha funzionato Adesso questo è il Bloodborne italiano Quindi questo significa Che tutte le altre persone Se qui c'è un Bloodborne Probabilmente c'è uno streamer Che streama Bloodborne Qui dentro Insomma In maniera abbastanza regolare Ecco Si troverà un gioco Che non gli leggerà Adesso Io farò una battuta Di quelle antipaticissime Ma In qualche modo Supportata Da esperienze Ormai di talmente Tanti anni fa Che non voglio contarli Nei confronti Della distinzione Anzi oserei dire Dicotomia Di approccio al lavoro Italiano Estero Specialmente americano O inglese Ok Quando il prossimo ragazzo Verrà da te Tra virgolette Nel luogo in cui stai streamando Per giocare E si troverà Un Bloodborne Che non legge i suoi salvataggi Probabilmente darà fuoco al pc Perché L'elasticità mentale Di pensare a certe trappole Non è una cosa comune Nelle regole Che certi Ambienti di lavoro hanno All'estero No ma infatti anche qui Poverino ragazzo Non sapeva come aiutarmi Poi a me è venuta questa idea Ha detto Mike Secondo me potrebbe essere Questo il motivo Mike pure ha detto Sì dobbiamo ragionare In sesta gennese Sì esatto Ed è andata Quindi meno male La sesta gennese È bellissimo È bellissimo È bello Essere qui Tutti insieme Davvero Mi strappa un sorriso in più La live di oggi Perché mi rendo conto Che attraverso quello Che abbiamo creato La nostra storia La nostra community Le nostre veteran run Casa E dove esistono Allo schermo sinistro Le informazioni sullo streaming E nello schermo destro Il gameplay Cioè io qui Mi sento di nuovo Come se fossi tornato a casa A fare le cose Che facciamo sempre Con tutti voi Insomma è veramente bello Pensare che siamo legati Sempre per sempre Ovunque Noi siamo Per citare un gioco Che purtroppo Tu non hai giocato Prima o poi dovresti giocarlo Cassette Beasts Segnato Vedrai Da quando me ne hai parlato Ecco 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 Comunque Bloodborne Veniamo a noi Veniamo a noi Veniamo a noi Allora Dimmi Oggi comincia il vero Il primo episodio Hai avuto la chicca La prima volta Prima puntata Bella intro Hai già capito il mood Ma dall'episodio 2 Si aprono le porte Del progetto Che avevo Quindi proprio Tanta roba Vai Bloodborne episodio 1 Sì Mi ha mostrato Attraverso un trick In quel caso Ovvero la grab Della belva All'inizio del gioco Che il titolo From software Può essere rotto Nei suoi schemi Anche se ovviamente In maniera estremamente Artificiale Cioè impossibile Se non per puro caso Una volta su un milione Che ti venga fuori quella roba A meno che tu non la sappia Ok Anche perché non basta Subire il grab Per far funzionare Quel exploit Diziamo skip Devi Necessariamente Liberarti Premendo i tasti E non l'analogico Per evitare Qualunque spostamento Quindi Non solo non puoi farla durare Tutta l'animazione E devi liberartene Ma anche stare molto attento Quindi è proprio una roba Specificissima Ecco Per questo dico Magari la prima volta Che l'hanno scoperto È venuta fuori a caso Però Insomma Non è una roba del tipo Un gameplay su dieci Rompe la sequenza In questo modo Come per esempio È pure più di un gameplay su dieci Ti ricordi Weirdly in Legends Ma certo Ma ti lascia immaginare Cosa succede Se rompi il ciclo Giorno-notte in Bloodborne Cioè Immagina Il burattinazio Come perde i fili Che succede nel gioco Cioè Il delirio Diventa Sì sì Diventa tutto Assurdamente Caotico È rotto E Se questa è una rottura Di sequenza Appunto Artificiale Attraverso Degli step Che insomma Sono stati anche Indagati in passato Dall'altra parte Io sono curioso Di vedere Una delle robe Più fascinose Dei titoli From E in generale Dei titoli fatti bene Ovvero Al di fuori Di robe glitch E basandoci unicamente Sulle strategie Efficaci ed efficienti E sono sicuro Che tu me ne avrai Da vendere Io voglio vedere Come alcune boss Fight del gioco Si rompono Sotto la pressa Di specificazioni In movimenti Io credo che Tanti videogiochi Belli Siano Videogiochi Che possono essere Contemporaneamente Molto semplici E molto difficili A seconda di quanto Giochi Al loro regolamento Ok Quanto ti abbassi A quello che lo sviluppatore Ha pensato Per quella fight Mi viene in mente Quanto posso Non aver utilizzato Il sistema Della rottura Degli arti Che ho praticamente Compreso solamente Nel cialis finale Esattamente Ma infatti Il New Game Plus Avrà a ogni combattimento Qualcosa per te Sarà bellissimo Capito Vorrei vedere Che ne so Ludwig Che si trasforma In una roba più semplice Poi non so se Ludwig Sarà possibile E vedere come passiamo Da tre live Passate su un boss Al netto ovviamente Del fatto che ora Siamo pronti A livello di leveling A una fight Con qualche try Davvero Io penso sempre A uno dei miei giochi preferiti Che è Shin Megami Tensei Che ha proprio questo Tipo di caratteristica Ci sono delle boss fight Che la prima volta Che le fai Sembrano impossibili Oddio quanto devo ragionare Ma qua sbaglio una cosa Veramente una flow chart assurda Perché poi Una scelta errata E tutto il party muore Poi capisci Qual è il punto debole del boss E tipo lo fai A occhi chiusi E puoi sbagliare Settanta cose Perché tanto sei troppo avanti Rispetto a quello Che sta succedendo in partita Secondo me Con Bloodborne Potrebbe essere una roba simile Pensate anche solo al fatto Che Adesso siamo in New Game Plus Abbiamo già farmato le cure Ma probabilmente Per quanto siamo forti E quanto diventeremo espetti Le cure non saranno mai più Un problema Per tutto il resto La run Capito Invece Prima Eravamo arrivati A quel collo di bottiglia Che ci ha portati Al kumf Che ci costrinse A evitare Dei tempi morti Nelle dirette E ora tu mi hai parlato Di trick di Gascoigne Ecco perché ho fatto Questa introduzione Perché Gascoigne Se ti ricordi Lo dico insomma Anche ai ragazzi Che magari si sono aggiunti Un po' dopo Nella serie di Bloodborne Gascoigne è stato Il mio primo grande scoglio Io avevo terrore Di quel boss Mi ha cominciato a tritare Ho pensato più volte Che avrei chiuso la live Senza averlo completato E Mi ha dovuto proprio Insegnare A giocare Come dicevamo adesso Alle regole di Bloodborne Che richiedono Tanto coraggio E non le conoscevi E non le conoscevi Non le conoscevo Quindi ora che invece Avessi giocato Souls velocissimi Successivi Comunque Non conoscevi Bloodborne E questa è stata una cosa Illuminante in realtà Per qualcosa Che la community Non ha mai conosciuto prima In maniera così pubblica Cioè qualcuno che ha giocato Elden Ring E non Bloodborne Si approccia a Bloodborne E non è aggressivo È una bellissima Esperienza Da aver documentato È vero È vero C'è un percorso Di crescita Come sempre Tra un episodio E l'altro Se ti vai a vedere Tutta la serie Ma vi basti pensare A quanto io Sia diventato Perry dipendente Quando ricordo bene Che in quel momento Della run Pensavo Ok bello So Perry Però consumi i proiettili Non lo so Esatto Cerco di usarlo poco Poi quella roba Che ti devi fare male Ma preferisco giocare A schivate Sì E anche perché È proprio quello che fa In un Souls Mike Ok puoi fare Perry Però Sono alcuni boss Che prendono il Perry E di solito Devi adattarti Al adesso schivo Ma infatti La cosa fantastica È che Gascoigne Ti vuole insegnare Attraverso anche Come lui ti salta addosso Distrugge le lapidi E fa bordello Ti vuole dire Guarda che Tu sei un cacciatore Come me Devi farlo anche tu È vero È vero Sì 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 È proprio un boss didattico Come per esempio Ce ne sono in Sekiro Mi viene in mente quello Ma Se vogliamo Come ce ne sono Anche nei Souls La differenza è che I boss didattici dei Souls Praticamente li inseriscono in intro Cioè Gundir Ti deve insegnare a giocare Dark Souls In Dark Souls 3 E hai appena cominciato E Però appunto Il Perry rimane Più nei Souls Una roba Da Schillato Ah vabbè Io non ho mai imparato A fare i Perry Non importa Non mi piace Non mi trovo col timing Schivo E vinco lo stesso Qui invece Secondo me Il Perry è più una cosa Obbligatoria Cioè Impararlo un minimo Soprattutto quando Ora mi hai fatto vedere Che nel PvP Addirittura puoi Perriare le cure Cioè si vede proprio Che il combat design È stato scritto Su questo Sparare Per perriare E che quindi I boss Vengano A loro volta Rotti Tante volte Durante Poi dimmi cosa ne pensi tu Tante volte Durante Gli streaming Il pubblico Ha commentato Eh si vede Che in Bloodborne Appena scopri il Perry Purtroppo si rompe Però io non la vedo Come una rottura Cioè per me Proprio Parte Del game design Voluto Da Miyazaki E da From Software Loro vogliono Che il Perry Sbilanci la fight Perché è una risorsa limitata Sì Che spesso ti richiede Finiti i 20 proiettili Di farti del male E quindi Lo vedo coerente Proprio con tutto quanto Anche Quel sentimento ansiogeno Che c'è all'interno Delle fight Poi è chiaro Che se sei preciso Gli ne fai tanti E quindi togli tanta vita Ma è lo stesso discorso Di Dark Souls 1 Se tu in Dark Souls 1 Finisci il gioco Tranquillamente Senza neanche scoprire Che il Perry esiste Se non hai già giocato Demon's Souls Io sapevo Del Perry in Dark Souls Perché avevo giocato Demon's Souls Ma io Demon's Souls L'ho finito Senza conoscere il Perry Sì è vero che nel tutorial Prima di morire Da vera Nexus C'è quel cavaliere blu Che ti dice Fammi il Perry Anche nell'originale Ma Non è qualcosa Che poi tu applichi nel gioco Specialmente nel 2009 E Dark Souls È L'apoteosi Più Ancora in realtà Di Bloodborne In questo Del risk and reward Perché Tu praticamente In Bloodborne Hai Il Pay For a reward Tu paghi il proiettile Ma se sbagli Non vieni Spesso Salvo creature particolari Distrutto Hai ragione Perché sei a distanza Esattamente Mentre Dark Souls Se sbagli Hai preso veramente male Ma tu a livello 1 Con un'arma molto scarsa Puoi andare al borgo Dei non morti E uccidere senza Il minimo pericolo Una volta conosciuta Una certa Skill set Di animazione Il cavaliere nero Senza conseguenze Viceversa Basta un piccolo errore Per venire ucciso immediatamente E questa è una cosa Che ha a che fare Con il game design E l'equilibrio di gioco Di tutti i Souls È ovvio che a un certo punto Il livello in cui si può dire Il Perry sbilancia Deriva dallo skill set Del giocatore A un certo punto Quando hai acquisito Una certa consapevolezza Sei più forte del gioco Assolutamente Non è uno sbilanciamento Sei tu che hai superato Il bilanciamento È quello No no Io la vedo allo stesso modo Salvo Guido In company ovviamente Lì è sbilanciato Se mai esistesse Un Bloodborne per PC E si cominciasse a moddarlo Sarebbe carino vedere Sto facendo veramente Theory crafting Del game design Sarebbe carino vedere Cosa succede Qualora tu aggiungessi Nel Perry Una finestra di danno Aumentato Come per la schivata Sbagliata Per venire incontro A quello che stavi dicendo tu Cioè ok Ma aggiungiamo anche Un rischio al Perry Tu lo fai dalla distanza Quindi se prendi bene Le distanze Stai lontano Fai Perry Sbagli il Perry Prendi più 50% Di danni Ma tanto L'avversario A meno che non sia Lady Maria E ti può Prendere da casa sua Non ti fa niente Però sarebbe carino Vedere se magari Tu cominci a spammare Perry A distanza ravvicinata Cosa che faccio spesso Tra l'altro Perché Faccio una premessa Mi sono accorto Che in Bloodborne C'è una C'è un specifico pattern Delle IA Che tendono Per evitare di essere Permastunnate Dai colpi Visto che praticamente La poise non c'è Ad attaccare Al primo frame utile Dopo che si sono presi Una combo In modo tale Da interrompere te Questo però Con il Perry Viene sfruttato Perché io praticamente Per una metà Della run Ho fatto Combo Combo Perry Senza neanche Aspettare Cioè proprio La mia combo Era Pull combo Con la mannaia Perry Perché sapevo che Questo Gascoigne Eh sì Gascoigne Questo German lo fa sempre La IA Ti vuole poi attaccare Vuole Praticamente Prendersi il momentum E cambiare le sorti Degli incontri Però se tu gli fai Perry Loro partono con l'attacco E si riprendono Un altro visceral E quindi poi Da lì puoi continuare Ci sono tanti boss Che ho fregato in questo modo Se però sai Fai una roba del genere Finché sei per Tre secondi Dall'animazione Del Perry Prendi il 50% E più di danni Ci pensi due volte Quindi Sarebbe carino Un giorno Qualora mai uscisse Bloodborne PC Fare sta mod E vedere a livello Di bilanciamento Cosa cambia Tipo la hard 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 mod Siamo arrivati a fare Le teorie Sul Bloodborne PC Comunque Fantastico Le teorie Cioè Siamo arrivati a fare Teorie Beh Ne parlavo con alcuni colleghi Qui a G-Orc Parlavamo di Bloodborne Perché ora che l'ho finito Stavo Insomma Raccontando la mia esperienza Sul gioco Ah ah Bello E Bloodborne È un gioco immortale Che per me Non richiede assolutamente Un remake È un gioco attuale Rimane Una delle esperienze migliori Che ho fatto nel videogioco Da sempre Il frame rate Un po' Lo accusi Più che altro Perché Alcune fight Sono talmente matematiche Talmente belle Lady Maria Io la vorrei vedere A 60 fps Lady Maria Guarda il fatto è che Dopo 40 ore di Bloodborne A 30 In qualche modo Entri in un momento In cui il corpo Si è adattato Ma appena Ti farò vedere Una clip Anche su Twitter Di 15 secondi Di Bloodborne A 60 Ti arriverà Un dispiacere Un malessere Perché Ormai ti abitua Allo scatto Perché è bello Perché è bello Perché è di una bellezza Di una fluidità Che hai Totalmente abituato Il tuo corpo A non avere In Bloodborne E dici ma Hai ragione Perché io la vivo Al contrario Cioè Sono abituato a questo Quindi non penso Neanche più ai 60 fps Cioè per me Il gioco è fatto così Quindi Esatto Strano 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 E Sì Sono d'accordo È un gioco Che ha bisogno Rispondo a Tom Nook Di un'altra release Sicuramente Per rendergli giustizia Ma anche proprio Per mostrare Quanto sia immortale Però adesso Ti faccio una E attuale Denuncia A quello che non vorrei Una delle cose Ah ok Pensavo a me No Come oggi Vuoi denunciare Il maestro Così io Buona volontà Sono qui A New York A primare E mi prendo La denuncia maestrica Immediatamente Il fatto è questo Ciò che non avremo mai Che bene o male Viene supportato Dalla passione Dei consumatori E degli smanettoni Più capaci E tra l'altro Dalla monetizzazione Che i fan Riescono a dar loro In rispetto Di ciò che fanno Ma che ufficialmente Non può esistere E in realtà In maniera colpevole Un po' Secondo me Capricciosa È avere Una re-release Che non sia Un Metti un po' Come i Demon's Souls Remake Cioè Demon's Souls Ha avuto un remake Da parte di Bluepoint Ma una cosa Che tu non sai È che arriverà Il giorno In cui sicuramente Ti proporrò Come ti ho detto L'altra volta Giochiamoci Demon's Souls Come da dove tutto È cominciato In una veteran run Facciamo una veteran Di Demon's Souls Ma Non sarebbe il remake Questo perché Anche se tu Non lo sai davvero Cambia tanto? Cambia tanto? A livello di veteran Sì Perché purtroppo Adoro Apprezzo da morire Ed è una delle cose Esteticamente più impattanti E rebuanti Del mercato moderno Ed è anche un male Ovviamente Rispetto a ciò Che dovrebbe essere stata Questa nonna generazione Ma Bluepoint Con tutta la buona volontà Ma forse Una verve creativa Come i localizzatori Di Dark Souls 2 Che hanno messo Un po' di cose Veramente Già lì è un po' complicata E disperata La situazione La traduci anche A cazzo di cane È finita Hanno preso Delle libertà Creative Che l'hanno portata A cambiare Statue Architetture Se mi cambi Una statua In Demon's Souls È vero che From era ancora Agli albori Non te lo aspetti Ma hai Cannato Un possibile Messaggio Importantissimo Della narrazione Politica Di Voletaria Se quel c'era una cosa E là Ce n'è un'altra Ti faccio un esempio Soltanto Ti faccio un'anticipazione Ok ok Intanto Demon's Lo conosco molto bene Esatto Comunque Apro e chiudo parentesi Mike Stavo ghignando Mentre parlavi Non perché Mi facesse ridere Quello che dicevi Perché siccome La camera Va in over eating Ah bene Ci ho messo Sopra una Red Bull No Fredda di frigo Vediamo cosa succede È proprio In equilibrio Sulla camera Quindi o rompo la cam O lo streaming va bene È incredibile Smart Ottimo Potrebbe essere un ottimo O una pessima pubblicità Red Bull Vediamo Assolutamente Faccio anche una storia Così poi potrai vedere È fantastico Il fatto è Che tu conoscerai Molto bene Una delle boss fight In realtà Più ispirate Di Demon's Souls Che non ha boss fight Molto ispirate Che è Il falso Il falso idolo Che è una gimmick Però è abbastanza ispirato Ti ricordi il falso idolo Quella che fa le copie Sì sì Certo Perfetto Quella nella chiesa La tipa Esattamente Sì sì mi ricordo Ora È passato molto tempo Non ti faccio l'indovinello estetico Ma nel remake Il falso idolo È rappresentato Come una sorta di Wicked Witch Una sorta di Strega Con il mascara sciolto Il ghigno Con i denti bianchi E maligni Lei che rida E ti fa gli incantesimi Ammazza a gruppo Perfetto Nell'originale È È Praticamente Anastasia di Dark Souls Cioè È al viso dolce Calmo Ah l'hanno cambiata Del tutto Del tutto Non lo sapevo mica Perché Lei era un falso idolo La gente ci credeva in lei Se Vedi La Suicide girl Magica Incazzata come una faina Che ti lancia le bombe Magari non ti fidi così tanto Invece Dici perché era un falso idolo Come hanno fatto a crederci Sì sì è vero è vero Era molto Era molto Era molto L'automa di Bloodborne Fondamentalmente Il false idol E quindi dici Bello il remake Però questa cosa Ti toglie un po' Quindi era più simile Era più simile Maica alla predicatrice Che sta col soldato Lì nella Nella parte finale Esattamente Sì sì Ok Esattamente Cavolo E tu pensi che Bloodborne potrebbe Eh Bloodborne potrebbe Esatto Bloodborne potrebbe Potrebbe cadere lì Potrebbe sì Però dove? Sto cercando di pensare Dove lo faresti? Dove pensi che possano cambiare? Ho visto la storia Bellissimo E allora Il fatto è questo Se veramente Quel rumor Secondo me Un po' sciocco Ma non di meno Supportato Da un precedente Di avere Bloodborne remake Tenth gen Si realizza E io ho Gran fiducia In In Bluepoint Però potrebbe Succedere che Determinate Strutture Di Old Yarnam Non risultino Poi così Più antiche Rispetto a Yarnam Perché magari Non ci pensano Cioè Boletaria Aveva una struttura Di un certo tipo Ed è diventata La gothic Magic Town Non è così Boletaria Boletaria Non c'entra niente Il castello di Boletaria È un altro pianeta Cioè È un altro gioco È un altro gioco Sai che invece Io ero convinto Che fosse Stupidamente Ma ero convinto Che fosse molto light La differenza Da un punto di vista Artistico Il gioco È abbastanza light Boletaria No Boletaria Boletaria no E penso di capire Creativamente il perché Perché Boletaria È Molto simile Ti faccio un parallelo Immediato Così che tu possa capire Al castello di Ico Anche perché Ok Anche perché Miyazaki Si è ispirato A Ico Nella sua carriera Per fare le mappe Interconnesse E così via Ma Avranno pensato Qui mi butto In una sorta di Intuizione umana Solo deduttiva Quindi fallace Ma Possibile Avranno pensato Ah ma questo è per i limiti Tecnici Hanno fatto questo castello Estremamente Light Estremamente Grezzo e freddo Non ci sono neanche i drappi colorati Ma ce li mettiamo noi E qui un bel tetto a punta No? Ecco E quindi Boletaria È diventata Drappi colorati Simboli di guerra Un sacco di roba Che non c'era Per un motivo Boletaria E quindi Quel castello Molto Poco Appariscente È diventato Il dark fantasy Ho capito E non va bene Cioè è bello Ma non va bene Nell'ottica Di mantenere la visione autorale Era Playstation 3 È vero che era grezzo Molto grezzo Demon's Souls E infatti C'era Il buon Capo di Sonic Ha detto Che cazzo è sta merda E poi ha chiesto scusa E ha presentato il remake Adesso Storia bellissima Però Non era un limite Tecnologico L'estetica di Boletaria Era un'estetica Sai Forse potrebbero ragionarla Mi hai fatto venire in mente Il discorso che fecero Come Con DMC Non so se ti ricordi Che Ninja Theory Disse Ma non vi lamentate Per Dante Che è cambiato Non è Dante Essere cambiato È Il mercato Essere cambiato La moda Essere cambiata Quel personaggio È fuori tempo massimo Obiettivamente Bloodborne Usciva In un time frame Nel quale Queste ambientazioni Iper gotiche Andavano molto forte Forse oggi Vorrebbero rivederle Perché nella loro testa Così Stare al passo Con i tempi Chi lo sa Mi hai messo in testa Un tarlo Però effettivamente Quando rimetti mano Sulle opere Lo fai anche Per cercare di parlare A generazioni Più giovani Che possono trovare Un'ambientazione Più accattivante Di un'altra Quindi Detto questo Per 60 fps Venderei pure mia mamma Quindi va bene Cambi Esatto Ma infatti sono Sono assolutamente D'accordo Assolutamente D'accordo Detto questo Signori Che facciamo Partiamo Io Penso che si possa partire Allora guarda Io pigio continua Ok Io pigio continua E Faccio solo un check Con i ragazzi Da un punto di vista Di volume Ovvero Ditemi se il gioco È troppo basso Troppo alto Figo Io lo sento Bene Però io Non ho Un feedback Che è Identico a quello Che esce fuori Dallo stream Quindi per questo Chiedo se Vi piace o no Un pelo alto No ok Sento bene Provo ad attaccare Così faccio un po' di rumore Alza la musica Andes Cordelo Probabilmente non hai giocato a Bloodborne Non c'è la musica A questo punto Ok Si sente Fantastico Perfetto Fantastico 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 E Un po' Guardate Visto che c'è qualcuno Che diceva Che era poco poco alto Gli do Un decibel meno Fatto Quindi adesso Ve l'ho abbassato Un po' Ve l'ho abbassato Un altro po' Ecco qua Ve l'ho abbassato Un pochino E forse così È perfetto Bene Mike Quindi Dobbiamo andare dal Gascogno Andiamo dal Gascogno Dobbiamo andare dal Gascogno Perché Dobbiamo Imparare dei trick A quanto Ho capito Sì Ma i trick Che ti voglio insegnare A volte Quando un po' Eccessivi Voglio comunque Ti permettano Di affrontare La boss fight Normalmente Perché alcuni trick Sono proprio Tanto trick Quindi Alcuni trick rompono tutto Spaccano completamente Quindi In alcuni casi Avrai strategie Particolarmente Efficaci Per fare Peggiori eufemismi Mai espressi Ma In altri casi Spaccano E nello spaccare Essendo il Tuo new game plus Voglio che Tu possa anche affrontarle Con tutto ciò che concerne L'avere ottenuto L'esperienza del new game E appunto Anche la meccanica Di rottura degli arti E così via Gascoin Non è una creatura Ferina così grande Quindi non ha arti da rompere Non di meno Ha alcune chicche Di IA Che potremo studiarci oggi Una in particolare Ok Arriverà Io devo solo trovare la strada Ma per il resto ci siamo Se vado alle fogne Ci metto un quarto d'ora Probabilmente Ma non mi conviene Fare Molto meno di quanto pensi Però Tu avevi sbloccato Dall'ascensore Eh sì E allora sì Marchio del cacciatore Immediatamente Eh Faccio marchio E vado direttamente All'ascens Ci metti un secondo Allora Scusate Mi hanno mandato Allora Mike Dimmi tutta Sofia di Red Bull Mi manda adesso una foto Perché loro sono in giro Io sono qua a lavorare Hanno chiamato la polizia Per la storia No no bro Hanno trovato una Playstation 3 Firmata da Kojima È una Sony Playstation 3 Firmata da Kojima Ah ah Ho chiesto se è in vendita Se dovesse essere in vendita La live finisce qui E quindi Ci vediamo Settimana prossima Se è in vendita Prendi un volo Va bene Quindi Fico Fico Eh sì In un negozio In un negozio Allora Benissimo Benissimo Il maestro procede A prendere un aereo Esatto Da qui Io Ah ma io ero già qui Quindi ho solo sbagliato strada Cioè non è così Non ero così lontano L'ascensore Da qua Do lo vi Guarda Ah dal Da casa Da casa Da casa Esatto 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 Quella Quella Intanto lancio un occhio Al cellulare Metti che Aspettate che metto Lanternino Adesso vediamo comparire Sabaccu nella cam di Saitoni Alle spalle Ciao Sì sì No non è in vendita ragazzi Niente Mike puoi Sta tranquillo No Avevo già aperto su una tab Il biglietto Ok Va bene Ripperoni Super rip però La PS3 Scrive Vin Venom Poi lascia Sabaccu il commento Voglio godere questo sangue Bloodborneano Vedremo la lotta più Ferale Venom scrive La PS3 Firmata dal giapponese Più sopravvalutato Di tutti i tempi In Venom Io ti limito a leggere Questi messaggi Però Secondo me adesso Hai creato Cioè Broly è stato creato così Più o meno Sì Ecco Questo era Sabaccu Cioè Sabaccu Ha preso il controllo Tipo Nagato Ha preso i mattoni Dei nemici di Bloodborne Ed è successo questo Prego Prego maestro Le lascio Lascio la parola Beh Hideo Kojima Eccolo il quale ha inventato Un genere videoludico Ha portato la prima E una delle poche opere Postmoderne nel 2001 Ancora oggi discusse Studiate in saggistica Che ha anticipato Di più o meno 10-15 anni Il futuro della specie umana Con una strana Certo ha aiutato Da alcuni covrider Ma Ha fatto delle cose Abbastanza imponenti All'interno di ciò Che può essere L'evoluzione Della narrazione videoludica Tramite non soltanto La introduzione Della cinematografia Che può anche essere Considerata una violenza Non gradita Ma attraverso anche Dei gameplay Dei game design Che hanno cambiato Per sempre la storia Dell'industria Anche lato sviluppo È uno dei creativi Più importanti E diciamo Sicuramente egomani Ma non sopravvalutati Dalla Della Storia del medium Anche perché Spesso si sente dire Che è poco prolifico Quando in dieci anni Ha fatto L'intera Metal Gear Saga Che è più o meno Il tempo in cui È stato finito Lo sviluppo Di Versus Thin E poi è uscito Come 15 Final Fantasy In un decennio Lui ha fatto la Metal Gear Saga Alcuni hanno rotto il cazzo Abbastanza All'interno Degli studi Di Super Enix Per far uscire Un videogioco Ha uscito Reso poi Mediocramente incompleto Poi c'è Kingdom Hearts 3 Altre opere Insomma Scala in Bones In un decennio Lui ha fatto la Metal Gear Saga Che ha cambiato per sempre Il gameplay Il game design Dello stealth genre Quindi Non lo so Io Sopravvalutato Poi Molinier Io credo che La bellezza Di queste veteran run È che I creator Che la mandano avanti Sono complementari Perché quando mi arrabbio Io vado a comprare una mazza Tu una cattedra E quindi Capito È diversa questa cosa Ma mi sono limitato molto Mike è molto arrabbiato Ah sì va bene Allora io adesso faccio Un effigio in live Pezzo di merda Però non ti dice neanche Pezzo di merda No Stiamo scherzando Vim Che so che Mike è molto fan E quindi Mi ha fatto il diretto Ma infatti È stato un momento bellissimo Potremmo però Cominciare a provocare A pensare Qual è un giapponese Sopravvalutato Guarda In Game Freak Ne conosco diverso Hai sentito la notizia di oggi Invece oggi È arrivata una bellissima notizia Ah sì Che stanno assumendo Che stanno lavorando No Praticamente Ne ho scritto un po' Su Instagram Poi magari quando torno a casa Ci facciamo anche un video Hanno creato una sussidiaria Che si chiama Pokemon Works Che è una Praticamente Joint venture Tra ILCA The Pokemon Company E Un'azienda di Shanghai Che fa giocattoli E La mission Dell'azienda È Aiutare Game Freak Nello sviluppo Di videogiochi E già questo È Insomma buono Vuol dire che abbiamo Della mano d'opera Ufficiale E Vi ricordo che ILCA Era Una delle aziende Dietro Nier Automata E quindi Non sono degli sprovveduti E In più Per il development Di giochi che sono stati definiti Smaller Pokemon titles Quindi verosimilmente I remake Che però In questo modo Vengono quasi automaticamente Convertiti A quello che abbiamo visto Con BDSP Quindi forse D'ora in poi Sarà difficile immaginarci Dei remake Che sono anche un po' Reimagination Dei giochi E tenderanno a essere Cose più piccole Però Se volete la mia Cavolo Meglio Cioè Se questa mano d'opera Deve essere messa Sotto dei remake Che poi richiedono Opera di ingegno Tanto vale che invece Lascino stare quella parte là E si occupino Piuttosto di aiutare Game Freak Nello sviluppo E di Game Freak Di aiuto Ne ha bisogno tanto E i giochi come potrebbe essere Un Leggende ZA Invece di collaborazioni spot Si dà struttura A questa collaborazione E probabilmente ILCA Ci lucra Positivamente Anche in maniera diversa A livello di profondità Se adesso hanno Praticamente uno share Con The Pokemon Company È una buona notizia No Smaller Pokemon Titles Non è Café Remix Ragazzi Secondo me Non prendono gli LCA Per fare un titolo mobile Poi oh Tutto può essere Però Dicevi Mike Scusami È una buona notizia Lo è davvero Secondo me Sì Il gioco Nesce quest'anno Viene ristrutturata La parte di sviluppo Insomma Scarlatta e Violetto È esploso Ha fatto danni Però sembra avere anche portato Poi A una presa di coscienza Che le cose Non andassero bene Poi oh BB Magari ci troviamo veramente Tra tre mesi Con Caffè Remix By LCA A quel punto Io compro una mazza E non una cattedra Purtroppo sono Sono da Cascogno Allora Fai Un backup Del salvataggio Da New York Beh Per forza Vado eh ragazzi Allora Devo uscire Dovrei farne diversi Oggi Quindi sì Io ci provo Ok No no funzionerà Vi faccio vedere anche La playstation Di questo posto Che ha tre giochi Come vi dicevo Tekken 8 Street Fighter E Bloodborne Già preinstallati Ah e Astro Playroom Ovviamente Carica Scarica Ve le faccio anche vedere Guardate Facciamo carica Giusto? Così carichiamo Il backup Tu hai parlato Dalla bambina no? Certo E allora Ci ho parlato l'altra volta Infatti Infatti Mi ha dato il carry on Eh infatti Perfetto Noi l'altra volta Abbiamo finito la sua quest Sì Abbiamo Finito la sua quest Sì E che ti fa ridere? No niente Niente Adesso si scopre Che nel cut content I Tom Prospector Hanno trovato la fight Contro la bambina La bambina Esatto E che proprio si chiama The Bambin Cioè Con la vita rossa La bambina Ovviamente Bambin è in inglese Come io Come Essendo a New York Raga non rompete il cazzo Lo so io l'inglese No no The Children The Bambin Come lo sai Eh raga La piccola essere La piccola Dio mio Perché Perché Oh comunque Con la Red Bull Non si è spenta Ragazzi Ottimo Incredibile Incredibile Ora questa è una DB Esatto No Sono andato avanti Va bene? Sì Ok Spensa No Coglione Acorditi ragazzi Non ti dico cosa ho capito Ma va bene La merendina Va bene ragazzi Allora In questa fight Prova Oltre a goderti La tua nuova consapevolezza Di Bloodborne Cosa che non renderà Gas coin facile Ovviamente No Questo no Ma prova a usare Il carillon Quando avrai voglia Di farlo Rion Ma giusto Perché l'altra volta Mi avevi detto Che era un po' Uno strumento Morgottiano Che cosa è successo? Vedo il puntatore Di Mike Ma che cazzo È sta cosa Che hanno aggiunto A Playstation Che vuol di Cosa stai facendo? Sony ha aggiunto La possibilità Di pingarti Sullo schermo Ma veramente Toccami il culo Ok Va bene carillonno Aspetta però Prima mi devo allontanare Da Franco Ti ho pingato il culo Che bello Grazie Grazie maestro Grazie Allora abbiamo riportato Praticamente l'antica Grecia E beh Detto questo Andiamo I maestri pingavano Molti culi Aiuto Aiuto Dov'è il carillon Dov'è il carillon Dov'è il carillon Ecco il carillon God Oh bene bene C'è un motivo per cui Ti ho detto di non metterlo prima Dovevi fare questo giochino Del menu Va bene grazie È vero O te lo sei semplicemente scordato? No Sei tu che sei sprintato Dentro la nebbia Coglione Pingami il culetto Per punizione Per me questa clip Da sola Potrebbe fare 200.000 views Perfetto Cioè È bene Allora io sto provando Azionare il carillon Ma in quanto È più facile fare No c'è F1 più 2 con Paul E entrare in fujin Però Ecco Ok ok Ah però se mi muovo non va? No no Penso che Secondo me Ehm Ok staccare Lo sento Oddio che fa? Ah Gli viene tipo il mal di testa Sì perché Gli ricorda la famiglia Una volta È un souls Ah Vabbè Però magari da Da belva lo rifà No no guarda Lo stai facendo Hai visto? Wow Allora forse da belva Oh da belva una volta No bro Si è trasformato in belva La seconda volta Che gliel'ho fatto Bellissimo Tre volte Ma la sapevi sta cosa? Ah guarda Se glielo fai tre volte Lui si trasforma subito in belva Io questa cosa da vetto Non la sapevo Perché Questa cosa non la sapevo Perché è talmente Afflitto dal fatto che La famiglia Sia andata Che diventa subito belva Bellissimo Ed è anche sensato Perché tu dici ok Ti prendi la finestra Di colpirlo Ma ti arriva prima la fase Se non ottimizzi Bellissimo Questa cosa La transformi in anticipo Non la sapevo Fantastico Solo i coglioni come me La posso sbloccare subito Perché tu magari Lo ammazzi in due Che figata Ho provato a fargli Perri Porca troia Eh no La fase 2 è cattiva No tardi Eccolo qua Oddio Ecco di nuovo No mi sono preso tutto È la forma No scusate No scusate rido Perché un ragazzo Ha scritto in chat Io lo sapevo E un altro ragazzo Gli ha risposto Sei un grande Mi ha fatto ridere L'interazione Aiuto Non mi sta dando Però hai usato due volte Quindi Dovresti poter usare Ancora una da bestia Vado No secondo me Dovrebbe essere Un max di 3 E una da bestia Ah a forma No non a forma È un max di 3 Ma da bestia solo una Ok sì È infatti È preso male Madonna ci rimane Tanto stunnato Sì sì Premesso che i danni Sono diversi Certo Rispetto al new game Eh per ora So bene il timing Del Perry Quindi Povero padre Allora Nuova consapevolezza E questa immagino Sia la fight normale Che mi volevi fare Adesso facciamo Quella pazza Rottissima C'era un ragazzo In chat da me Che diceva Ma la kicker di stasera È carillon E io ho fatto No You sweet summer child Figurati Come minimo Evochiamo il merendero Che diventa un pet Ricarico il salvataggio Giusto? Ricarica il salvataggio Codo Ah giusto la Giusto la falce Hai ragione Lunair Perdonami Mi sono dimenticato È vero Poi cominciare a provare La scarica E se la proviamo adesso In questa fight Ho il leggero sospetto Che tu abbia doppio audio Di gioco È possibile Ma non è risolvibile Perché non c'è il monitoring Dell'audio Anzi Posso fare una cosa Ma dobbiamo vedere se Mentre carica Ci provo Dobbiamo vedere Se l'audio lagga o no Questo è Il fatto Vediamo Ma secondo me Non ne vale la pena Cioè se non sentite male Non ne vale la pena Se sentite bene Allora non mi metto a smanettare Cioè rischiamo che faccio cazzate E poi lo stream va a portare Allora Ok Cioè probabilmente È davvero doppio Però Il routing audio Diciamo non è ottimale In questo studio In questa run In questa run In questa run Gli faremo fare amico Jura Se non vi dà fastidio Preferisco questo All'audio Che lagga No no Meglio di essere sicuro Sì 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 Mi spiace ragazzi Una volta Anche perché Scusami Se ti ho interrotto Mike Il setup che avremmo Per il comitè È diverso C'è una legge internazionale Lì Questa è una sala Anzi Di lusso è andata Guarda Adesso va bene Quello che hai fatto Ma Per quello che ti aspetta Metti sempre offline Perché quei secondi Di login Te li eviterei Dovrei fare quick exit Un paio di volte Ah ah ok Allora Adesso io ti andrò Io ho anche un video Che il maestro mi ha mandato Non so se devo Riprodurlo adesso Allora ti spiego Io ora Ti dirò cosa fare Ma la cosa importante È Che È molto Più Complicato Di farti fare La grab dal lupo Quindi avremo Due strade Io te la faccio provare E ti guido Nel modo più preciso possibile Perché l'ho fatta Più volte oggi Per in preparazione Della live Ah che bravo Ti ho preparato un video In cui la eseguo Così che tu possa Anche duplicare I miei movimenti Qua Se poi Ti rompe il cazzo Non ti va L'importante è che l'hai vista E che sai che esiste Però voglio che tu ci provi Voglio che ci provi Finché hai voglia di farlo Ok Per prima cosa Entra nella boss fight E attivala Ed esci dal gioco Va bene Quindi non guardo il video Ancora Non serve Il video lo guardiamo Nel boss fight Schippo la cutscene Si può schippare Si Esci Così la attivi Così la attivi Ci deve essere la nebbia Per fare questo trick Mettiamola così Ecco Ho capito Quindi esci Vado Quicksilino E adesso quando vai nel menu Metti offline Va bene Così non ho quei secondi di login Chiarissimo Questa sarà una roba Si da speedrun Probabilmente Gioga offline Continua In realtà Forse da speedrun No Perché è più lento Che certe porcherie Che puoi fare in speedrun Però è comunque più affascinante Ok vedo Vedo il gascogno Ora è sparito Perché c'è la nebbia Adesso indietreggia un poco Bravo Mettiti in quest'angolo In questo angolo qui In questo angolo qui Va bene Volta ti guarda le scale Dietro le tue te Con l'inquadratura E le punti Oddio è vero Merda Volevo fare sto meme No ma aspetta Ma questa cosa È genuinamente giusta Però puoi fare il professore Tipo Cazzo è fantastico Fammi vedere Pingami tutto Guarda posso anche disegnare Oddio ora lascia anche la scia No vabbè è incredibile Nel New Game Plus Allora Punta a questo punto L'hanno messa apposta per noi frate Punta qua Con la telecamera Ok Ok Vedi che ci sono Vedi che ci sono le punte della scala No Il tuo obiettivo adesso È fare qualche tentativo Puoi mettere un piede Sul primo scalino Prima di farlo Devi sprintare E saltare Per salire Qui sopra Quindi Saltando da qua Saltando Da qua Da qua Perché tu devi andare Dall'angolo Andare Il muretto è questo qui Esattamente Ok Posso provarci? Devi Sì 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 Assolutamente Libero Così Ma verso il terzo Guarda Per renderlo più consistent Guardalo Copri con il cappello Questo Guardalo proprio Così Esatto Esatto Quasi Ci sei riuscito Ah sì? Cioè no Ci sei riuscito Nel senso che Ok non sei atterrato Ma Hai già capito Il momento in cui saltare Era solo l'angolo Leggermente impreciso Troppo Verso sinistra Cerca di andare No ragazzi Stia roba comunque Incredibile Così Bellissima funzione Una volta tanto Hanno fatto una funzione Incredibile Com'è? Devi Essere così In diagonale Devi toccare Quest'angolo E saltare Verso il piolino Esatto Leggermente prima E ci riuscirai Leggermente prima Tu puoi mettere un piede Sul primo scalino Ma non tutto il corpo Diciamo Non così No Quello è il secondo Quello è il secondo Non è il tempo Troppo tardi No Non era il tempo Hai puntato a questo E non a questo Hai puntato a questo E non a quello Hai ragione No Ancora il secondo Ho capito Ho capito qual è il problema Perfetto Esatto Ah Ok ci sono Perfetto Ora Purtroppo Anche se ci sei riuscito Questo era lo step zero Perché Per fare il trick Devi poterti Fermare sul terzo E non sul quarto Il gioco Non ti permetterà mai Di farlo Perché Il personaggio Quando salta Rotola E quindi anche se azzecchi il terzo Cadi sul quarto Ora La parte Difficile È praticamente La Ci sono due parti difficili Di questo trick Il resto è una cazzata Ma La parte difficile Uno è questa Devi Riuscire a fare questo salto Ma avere la fiducia Che ci riuscirai Perché Appena Il personaggio Si stacca da terra Devi fare quick exit Perché il gioco Deve percepire Che la tua ultima Ho capito Cioè io devo sapere Che l'ho fatto Senza controllare Esatto Perché tu devi dare al gioco Come input finale Del No c'è che esce adesso Sì bravo Sì bravo No 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 Stavamo facendo Esatto Studio Tu devi far sì Che il personaggio Venga registrato Su quel piolo Ecco Su quel piolo Prima che finisca la rotolata E si registri sul quarto Allora Devo Fare un po' Di prove del salto Perché deve venire Consistente Ma ricordati che Per farlo Devi essere Non è un quick exit normale Devi essere Veramente veloce Quindi devi solo fare Il salto leggermente prima E era perfetto Facciamo prima training Del salto Esatto Ok Esatto Sì Esatto Quasi perfetto Devi mettere un piede Sullo scalino Mezzo secondo dopo Ho saltato troppo presto Leggermente troppo presto Leggermente troppo presto Ancora Va bene Ma la direzione è perfetta Adesso Ho svilgolato Qui ho smettato la direzione Vero Bravissimo E l'importante è capire Cosa sto sbagliando Perché così Posso correggere Non male Leggermente prima Considera che purtroppo Capisco il fastidio Che provi Perché il salto Con cerchio È una bestemmia Però sì No no ma Buono Esatto Ok Questo era giusto Questo era giusto Devi però Dobbiamo farli Almeno 4 o 5 di fila Perché se no Leggermente dopo Questo salto Con cerchio Lo detesto Devi fare la pull tap È quello che ho detto È odioso Lo so Lo capisco tanto Ottimo Però se capisco Il ritmo Sì Secondo me Devo lavorare Sul double tap Perché per quello Che salto troppo lento Eh sì Eh lo so Eh ma guarda Lo odio Lo odio Tutti lo odiamo Chi non lo odia Troppo presto Eh niente Ancora ancora Vai vai Mi piace Nio che plasti Lo adoro Troppo presto Direzione sbagliata Ma Anche troppo presto Ma di poco eh È uno Chiocco di dire In più Buono Perfetto Ok 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 Ci sto entrando Ci sto entrando A visto che già abbiamo Diminuito di tanto Sì sì Fatto bene Esatto Non si può mappare Da nessun'altra parte Mi diazzo In blab or no C'è questa domanda Ai tempi Che mi dà molto fastidio Leggermente dopo Troppo presto Bravissimo Ormai Sì eh sì Troppo presto Perfetto Non serve più che te lo dica Let's go No 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 Tu dimmelo Ok ok Perché magari poi sbaglio Però Buono Ecco Visto Ricordati che È abbastanza semplice È abbastanza semplice Da capire Perché riesco a dirti Prima che tu ci riesca Che ci sei riuscito Quindi l'RNG è più basso Ok io ti dico Ce l'hai fatta Perché so che ce l'hai fatta Prima che tu Atterri No Tardi No direzione stavolta Cos'era tardi? Direzione Però ne hai fatti due di seguito eh Quasi Non so bene cosa ho sbagliato qui in realtà Leggermente il tempo Però ci sei Troppo presto Sono d'accordo Mizz Sto provando a non correre da prima Non devi correre da prima Non è necessario Buono Ok Adesso Ho pensato la stessa cosa Mizz Non cercare Non cercare di essere Consistente al 100% Ti stai riuscendo abbastanza spesso La direzione è giusta Qui no Il tempo Il salto era Tempo giusto Direzione sbagliata Ok Sì 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 Puoi cominciare Ecco vedi Ecco Puoi cominciare a fare il quick exit Però ti dico una cosa importante Il quick exit non ti garantisce che tu ci riesca Perché è un quick exit Veloce Ok Esatto Esatto Deve essere L'ho fatto apposta adesso Sì no certo Deve essere È un quickest È un quicker exit Ok Un quicker exit Ok Come mai è diverso Dagli altri In che forma Diciamo Nella forma che se fai un quick exit Leggermente più lento Il personaggio si è già alzato E ti riporta al quarto E non al terzo Quando va fatto? Appena salti Appena poi Ti posso guardare il tuo video? Da questo momento in poi Puoi guardare il mio video Assolutamente Te l'ho dato apposta Lo vedete ragazzi Non c'è audio ma Assolutamente Assolutamente Ah ok Tu è a step Quindi prima mi hai fatto vedere il salto Esatto Mentre sta rollando Ok ok No spoiler No spoiler No spoiler No spoiler Ma Prima ti faccio vedere il salto Esatto Ma ricordati questo Prima di farlo Permettimi di dirti una cosa Non è Certo certo Non è mentre sto rollando Non è mentre sto rollando Perché Bloodborne Ha bisogno di tempo Per far aprire i menu Quindi Ti appare Mentre sto rollando Ma in realtà È appena salto Appena salto Comincio a premere start E a fare tutta l'operazione Ok Ah Scusami Prima di farlo vorrei Renderlo ancora un po' più consistente Devi godertelo È una cosa bella Non deve essere mai frustrante Infatti ho un modo Per non prendertelo frustrante No ma Per me Cioè questa Stai scherzando Per me sono le cose più divertenti da fare Cioè Spero sia divertente per il pubblico Ma Provare a fare sta cosa Per me Sono felicissimo Sono felicissimo Di sentirti così Direzione sbagliata Troppo Secondo Ah direzione sbagliata Ok Sì perché È riangolato verso il secondo E non il terzo Ora è giusto Ok Posso andare più deep Troppo Troppo verso il secondo Troppo verso il secondo Sì Giusto adesso Visto? Stavi Stavi correndo E già sapevo che ce l'avresti fatta Per farti capire Quanto è preciso E ti aiuta la direzione Perfetto Ok Perfetto Now We try Allora Movimento Movimento Del Quick exit Esatto Pa 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 Ok lo faccio Occhi chiusi un attimo Vediamo se viene È giusto Ok si stava uscendo È una combo Esattamente Esattamente Va bene No no Devi È una cosa nuova Arriva Arriva Troppo presto Il salto Il salto Non so come triangolo Si è uscito fuori Nell'equazione Era giusto il salto ma Bravo bravo Il panico che mi prende Lo so ma Bravo esatto Ma è normale Infatti la figata È proprio che La soddisfazione Giusto Tutto Più il troppo lento No Il quick exit lento Esatto È tutto corretto Solo l'ultimo passaggio Allora però ci siamo vicini Esatto Esatto Ho esitato Sull'ultima X Esatto Perché Io so il perché Se vuoi te lo posso anche dire Certo Io so perché hai esitato Perché conosco te Perché volevo vedere se ce l'avevo fatto Bravissimo Esattamente Esattamente Perché è successo anche a me È successo anche a me E ora è sbagliato perché È sbagliato perché sei sul quarto E non il terzo Guarda Eddie Certo Perché tu hai Atterrato sul terzo Ma il gioco è riuscito A fare in tempo A registrare Che sei rotolato sul quarto Quarto Questo strozzo Come si permette Di non farsi rompere Esatto Grazie comunque posso dire Che non so da Quanti sono parte tua Però parte mia Sono 2550 persone È bellissimo Essere qua tutti insieme A fare le cose È bellissimo È porca troia Incredibile È meno male Che al New Game Plus Non interessa Allora Vai Esitare una sconfitta Questo è solo il passo 1 Potrebbe Potrebbe Ma il fatto è che Per qualche ragione Per qualche ragione Stronzo Stronza È volato Non ha arrotolato Quindi non vorrei che il piedino Sia stato registrato comunque Ma vediamo 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 Ma sì Devo masciare alla fine Panino Lo so Sì 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 Devo masciare Devo far masciare orzo 1 più 2 Mash mash Allora Esatto Vediamo un po' Su quale sei Fa vedere Comunque il quarto Stronzo Vabbè No ma L'avevo intuito È un po' Anch'io Quando ho visto che volavi E non rotolavi Mi ci sono un po' No Bravo Troppo presto il salto Avrei fallito lo stesso La motion Però Forse Leggermente Più veloce puoi farlo Però forse Non è un no Potrebbe essere andato Ok 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 Non è un sì È più no che sì Ma potrebbe Esatto È più no che sì Ma potrebbe Bravissimo Bravissimo E io ormai purtroppo Ce l'ho bruciato nelle retine Questo skip No non credo che sia deluso Il maestro ragazzi Ma che deluso Sta imparando velocissimamente A fare cose pazze No 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 È il quarto Lo vedo dall'altezza Non dobbiamo essere A livello del tetto Però ci sei eh Hai fatto tutto Pa 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 Esatto Esatto Pa 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 Esatto Il problema è che Se mascio troppo No si Si purtroppo Si devi essere Premo no Capito Premo no No poi Ok Però la velocità Era giusta stavolta La velocità Era giusta stavolta Quindi C'è sempre Un pezzo in più Al puzzle Bella Questa potrebbe Questa che bellezza ste cose mi fate vi vance mi fate eh ma troppo bello vediamo vediamo ti pare che non ti prepara forse anche secondo me è forse vediamo vediamo anche secondo me è forse vediamo se abbiamo il cazzo duro cazzo mosh si cazzo duro allora fermo 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 non mi muovo per fortuna l'occhio c'era allora adesso per diverse ragioni potere non è necessario ma so che servirà quindi ora esci dal gioco e fai un backup uno step alla volta voglio che tu abbia così abbiamo lo step frizzato io voglio che tu abbia un safe state esatto madonna che maiali siamo proprio un maialando un seghino in sala lan raga sappiate che se mi arrestano qua non mi vedete più se mi arrestano in italia abbiamo qualche speranza ma se mi arrestano negli stati uniti carichiamo non lo so se mi vedete di nuovo poi insomma io vorrei farlo metal gear sono gasatissimo mamma mia e io di più sappiate che il maestro è così potente che mentre io ero a lavorare a roma per il red bull comité ha preso entrambi retro think sì con due computer bene mi è già arrivata la mail della dogana cosa c'è non mi hanno arrestato il monster hunter bar perché dovrebbero qui beh non hanno arrestato neanche mike se non ci vedevate tutti e due ma perché però l'america non è il giappone ragazzi in america lì non ci chiedevano scudo figurati ci arriva la swat direttamente comunque io non voglio di niente ma la red bull sulla camera non l'ha fatta più spegnere incredibile adoro boh se si spegge gliene chiede un'altra fredda di frigo esatto ci sparano direttamente senza allora allora quello che devi fare ok per ora non guardare il video prova intanto infatti stavo infatti sto impazzendo per sta roba sono troppo contento gira gira la telecamera perfetto adesso rolla in questa direzione una volta verso destra diagonale così un roll perfetto adesso piano piano devi sfruttare il geodata che è qui spostandoti in diagonale ma molto piano per cercare di anche se sembra che tu abbia già superato l'itbox di questo non è detto yes per far sì di poter non scivolare verso il basso ma di poter camminare verso la staccionata e l'ultimo piolo quindi piano piano fai un qualche scattino no verso la sinistra e piano piano scattini scattini non vado non vado giu versi di fare scattini piano piano salendo cercando di portare il personaggio in avanti oddio quasi ok camminare in avanti ci sei fermo nooo caduto ok ok di nuovo reload hanno un post c'è perso it is done my friend you're bloccato qui aspetta e faccia fammi divertire un attimo per vedere cosa succede in questa situazione niente dovevo andare più piano lì si dovevi un secondo fermarti perché ti avrei fatto fare un altro secolo eccoci qua non è che tipo prendo così e poi si rialza no anzi è più capace che comincia a cadere infinitamente e poi muore va bene va bene notte di caccia finita si aspetta attacco in salto è vero proviamo sei nella terra non c'è un grande essere c'è garman che ha detto se faccio aspetta osso oddio si è spostato è però sei tra hitbox chiuse sarebbe bellissimo se cresce a clippare ma mi sa che scusa piccoli esperimenti per capire un attimo esplora esplora sperimenta perché proprio tipo bloccato tra come dici tu hitbox ci sono dei muri invisibili e noi quindi in realtà siamo come le belve che cercavamo di aggrare l'altra volta dalla claire esatto no niente non si può fare nulla secondo me viene se vi viene in mente qualcosa da provare ditelo ora giusto così per per il meme che vogliamo fare esperimenti e da steso è ma che cambia vediamo c'è c'è lo steso qua c'è la roba che ti metti a terra ma non ce l'hai no ma anche il cacciatore si va via e si cannone e cannone che fa mi sposta no e non c'è abbastanza proiettile aspetta cacati addosso va bene back step non fa niente back step di qua back step di qua nulla stabilisci contatto beh sì probabilmente trovo un grande essere però al net acqua attacco in salto con mannaia vogliamo provare ok nulla no no non c'è modo di uscire qui siamo all'inferno va bene df4 non lo posso fare ma esce proprio da soft la gioco sì 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 ci ho pensato va un secondo in ritardo no qui che exit vedrai ritorniamo lì cioè lì devi fare davvero marchio del cacciatore sei softlockato sì 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 anzi ci saranno ci saranno dei momenti in questa run in cui il save upload sarà molto importante se lo sbagli perché rischiamo softlock buttiro te lo dico no no ma l'ho percepito è praticamente la stessa cosa che abbiamo fatto insieme ti ricordi quando sì certo diamante perla e butti il salvataggio se sbagli roba lì sei soft lockato esatto ti posso chiedere una cosa vai posso fare la pipì vai pure a fare la pipì ma grazie maestro chiesto il permesso mi scappa non l'ho fatta da stamattina sono a giro da stamattina alle 9 quindi arrivo arrivo subito ragazzi capisco molto no no non intendevo qui in diretta davanti a voi ragazzi e poi arriva la slot di nuovo avrei detto con il bagno vabbè arrivo no no non mi lavo le ragazzi me le lavo con un hamburger probabilmente in america con il red bull perfetto quindi ragazzi non dite palle allora quando dove ritrovare una parola da dire mentre io me ne vado l'avevamo già detta questa cosa tra l'altro ridondanza ciclica l'or esatto ho ucciso un cane intanto vi faccio vedere una cosa eccomi qua ragazzi mi sono lavato le mani con la pistola per far prima allora è in situazione in tutti i bagni bene andiamo pronto balls assolutamente sempre balls ragazzi sempre palle sto scherzando 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 basta loghi comuni sugli americani fanno troppo ridi bene andiamo allora fanno a sinistra no devo fare prima il roll in diagonale si ok poi adesso scattini pini ma ce l'avevi fatta cioè tu l'avevi già fatto quindi hai capito cosa fare devi scalare il piolo esatto una volta che lo hai superato ti troverai sulla staccionata ci sei basta adesso fai un altro save basta ok fai un upload esci dalla partita e fai il save perfetto la porta è aperta che mi devono fare ragazzi l'ho aperta anche perché così magari la macchina si scaldamento tanto non c'è nessuno considera in questo momento che il prossimo step è l'ultimo difficile gli altri sono facili ok vabbè dai allora ce la stiamo cavando bene assolutamente sì carica in questo caso carica con quale parola descriveresti il canale di mike ci serve per sapere cosa spammare nella sua chat ok la tua è palle la mia è palle ovviamente che non sia l'or perché è troppo banale no vabbè ovviamente ma per chi mi hai preso sono un creativo bravo è anche eclettico è banale ragazzi no dobbiamo trovare qualcosa di più di più figo ci penso esatto la mia chat che dice parole precisissime guarda sai qual è una bella? cappuccino cappuccino molto bello sarebbe bellissimo che onore e anche ripausano esatto ok ci sono allora adesso devi te lo ripeto a parole ti metto il pinguino dell'affetto allora si pingami tu praticamente quello che ti aspetta adesso è una cosa un po' frustrante ma potrebbe anche uscire first try qui c'è il piolino devi correrci contro e saltare di qua dall'altra parte esatto devo prendere l'altra ringhiera si quindi se corro contro il piolo e vado avanti cado? no 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 tu devi correre il piolo invisibile davanti al piolo no il piolo è una hitbox se vai leggermente a destra o sinistra cioè a destra o sinistra cadi immediatamente ma se vado dritto rimango fermo esatto però ricordati che purtroppo è per capire se posso rincorsare no devi rincorsare perché altrimenti non fa cioè non hai virtualmente il comando del salto da fermo purtroppo quindi non è non è il den ring devi correre in avanti devi non puoi camminare devi correre quindi quindi lo fai guardando il tuo video però ok perfetto se guardi il video hai un'idea più chiara però hai due opzioni o provi a fare un salto letteralmente orizzontale verso sinistra oppure provi a fare una leggera diagonale dell'analogico perché purtroppo non hai il d-pad e quindi è un infame ok eh no certo però si stavi andando praticamente in diagonale lo vedo anche qua io sono andato in diagonale per semplificarmi la vita però non è necessario ci provo allora bella merda va benissimo non ti preoccupare ricarica pure devo riscatare si devi ragazzo sono andato eh raga non tutte le ciambelle sono ciambelle scarica si ho fatto bene va bene va bene ottimo try vero è bellissimo leggere sarà una lunga notte e per me sono le sei di pomeriggio è vero è vero eh alcune ciambelle sono un pistole eh a volte bene no no niente jet lag ragazzi sto bene poi vi racconto sono stato sveglio ieri fino a luna di notte i gamer non subiscono jet lag perché fanno sessioni di gioco talmente inumane che esatto allora devo esatto ma non posso prima camminare verso il piolo per vedere bene dove è che si si puoi camminare per fare quello che vuoi ah gesù bambini pip capisci perché senza safe state questo è difficile è l'ultima parte difficile è difficile questa forse è la più difficile si ancora per me è la più difficile perché devi stare completamente allineato si jesus kid esatto chi sei in america kid boo kid jesus adult jesus jesus tra parentesi resurrected di budu kaiten kai c4 questi allora no le bestemmie qui in america non credo possano essere comprese ma comunque noi non le facciamo ci proviamo no per loro non c'è il concetto di bestemmia bambino del deserto ah avete ragione che è jesus bambin in inglese scusate jesus bambin come the bambin giustamente l'avevamo parlato prima e già mi scordo le cose allora no tutto anche assettato allora tanta paura ma perché casca dius latino latino di dius secondo me non devo fare quello che sto facendo devo andare più a cazzo duro perché prima o poi correndoci contro slitto latino dius sacrum sanguine sanctum sanguine sanctis no ragazzi non ho dato un via libera per le bestemmie in latino basta ho detto solo dius non ho detto altro benissimo jesus pre timeskip cosa non c'è un timeskip che io sappio godo sto godendo mike sto godendo subito save state bravissimo sto godendo stai godendo vedete devo farlo subito senza cercare di correre prima contro mi ha fatto uno slittino però sei sicuro si sono sicuro va bene se vuoi puoi rischiarti il prossimo step però io farei no 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 è solo per essere sicuro di non salvare perché ero un po' più in là prima poi sono tornato no no ci sta funziona ok va bene va bene allora state non ho quel cazzo che non lo faccio anche se la prossima è facile metti che sbaglio può succedere per sfiga più che per abilità qui ci vuole un po' di culino io capisco analizzare i giochi ma pestare uno a uno i geodata mi sembra eccessivo è solo l'inizio ragazzi questo è il secondo episodio avete sentito raga ho sentito un sussurro io ma non l'ho decifrato perché sto avendo cose che urlava ah e niente finita ci stanno venendo a prendere ah ma si stanno divertendo è la mia ultima live ragazzi bene ho chiuso ho chiuso ho chiuso guido allora mettiti oh sei già in una buona posizione in realtà ok inquadratura verso di lui bravo così adesso rolla verso di lui senza fretta una volta non funziona un'altra eh esatto sto cadendo eh quella è un po' di sfortuna non va bene per niente posso vedere se muoio? penso che tra 30 secondi potrai cadere oddio oddio sto scendendo Mike io vedo cioè Iro adesso vede cose che voi non vedete guarda 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 c'è anche un effetto circolare nuovo in Bloodborne con questa patch vedete sta praticamente scavando un tunnel dimensionale comunque ancora non è morto forse non hai safe meccanismo di morte che hai dici come Elden Ring ma in Dark Souls c'era? mi pare di sì in Dark Souls 3 sono morto in quel modo mi sembra che ci fosse però Dark Souls 3 è successivo a Bloodborne eh c'hai ragione Dark Souls 3 è successivo ma non ci penso mai no mi sa che Iro il merendero no è morto mi sa che Iro il merendero è ed è morto bellissimo va bene va bene allora scarra no ragazzi non c'è abbastanza buffer per disegnare un pene non c'è abbastanza budget mi è appena arrivata una notifica sul cellulare che si chiama notifica di tracciamento ma ti stanno veramente venendo a prendere ma no ma le mie cuffie sono qui ma cosa dici si è sbagliato vabbè allora offline no no sono le mie cuffie ma sono qui c'è sta sbagliato allora prova a questo punto a non rollare immediatamente da dove ti trovi prova a posizionarti in maniera leggermente meno trascinata dal salto di prima fai qualche scattino e appoggiati al piolino che è alla tua sinistra quindi va bene si tappa un po' mille suoni avvicinati di più al piolino zitti zitti zitto scusami le cuffie hanno preso vita ok allora qualche step verso sinistra in un passo completo qualche scattino sì esatto appoggiati un po' più sul piolino mi guardiamo il movimento di oro ok perfetto questo mi piace però fai sì di scontrarti sul piolino ok questo è buono in realtà va bene non è male forse leggermente vai un po' leggermente indietro indietro sì ok ecco secondo me meglio così meglio così questo è bello però appoggiati comunque al piolo perché non devi stare incastrato tra gargoyle e piolo ma fa sì che il personaggio si appoggi prova a farlo camminare affinché si scontri con il ok va bene adesso leggeri verso di lui ecco qua un roll verso di lui sì va bene non è male ma l'importante è che è esatto un altro senza paura ogni tanto prima o poi arriverà ok buono sto merendando sto merendando sto merendando no stavi per sbloccare no che fa ok 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 ora non ti faccio fare il safe state perché non mi fido prova a ora devi fare come se fossi su una corda the floor is lava saido devi camminare sulla staccionata su ringhiera sì fai l'angolo oh oddio che culo ah no sei sceso ok ok no infatti ho fatto bene a non fidarmi ho merendato hai merendato in un luogo senza uscita softlockato softlockato guarda pure il mio video se ti vuoi essere utile per vedere come risolvo cioè perché qui puoi risolvere no ma puoi vedere come faccio il salto io sì e tu perché poi che cosa fai arrivi fino in fondo qui bravissimo ok ma devi saltare anche non devi mai più saltare per fortuna ah ok ok oddio oddio eh sì raga eh sì è il cosmo il tanto decantato cosmo il famoso cosmo è qui guardalo hero germanizzato oddio che cos'è quella è la è la prima persona quella è la soluzione la ringhiera continua ah perché continua sì e diventa trasparente la ringhiera continua quindi va out of bounds bro sì eh sì adoro 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 ok or some say the bambian è giusto godo 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 voi sentite bene non sentite basso vero? io sento un po' basso il gioco però è una muggata beh lì ci sta proprio il merendero è residente lì ecco scarlato e violetto ok voi sentite bene il gioco vabbè io non ho modo di risolvere purtroppo sta cosa forse è il caso di aggiornare le ban world beh ha senso perché ora non ci sono più spoiler in teoria forse c'è qualche Mike se vuoi mantenere qualche cosa spoiler quindi bannata per il new game plus magari senti Ferdi quando hai tempo ah no prima devo rollare che cazzo sto facendo no più indietro ok no passetto a sinistra ok no peccato guarda pure il mio video oddio qua sono di nuovo in una no fly zone considera che hai quasi finito eh questo è no 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 ma guarda ti ripeto cioè se pensi che mi sto annoiando non mi sto annoiando per niente perfetto sono contento io adoro queste cose ma bene guardo pure il tuo video intanto che carica tutto vai vai allora media source ecco qua ok 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 mesmerando mesmerando ragazzi ah ok va proprio a maiale lui lì e poi piano piano passettin dei passettinis vedi vedi fa proprio l'arte dello sgrilletto però puoi anche se hai se hai il coraggio puoi anche camminare solo che no no non le ho le gazze un'ora e quaranta di live e questo è il risultato more vet please esatto bene vai ecco spiegato perché non l'avete fatto la volta scorsa esatto eh beh sì oh 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 ma vaffanculo secondo me anche l'inquadratura aiuta secondo me devi indietreggiare un poco ti ricordi che ti ho detto che sei troppo tra il piolo e il gargoyle è perché tu sei abbastanza avanti da superare la la staccionata eh ho smaialato adesso hai smaialato troppo vicino devi smaialare a range letteralmente è più facile battere gas coin ma credo che questo faccia molto di più che rompere gas coin ma diciamo che l'obiettivo non è battere gas coin fare qualcosa di utile è mostrare che questa cosa esiste poi una volta che sei consistent la fai easy ok quando lo fai spam generale di sei un grande grazie esatto esatto indietreggia un po appoggiati eh questo non è male è un bel diagonale questo oddio ok 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 no comprensibile comprensibile l'ind Americano l'indamericano è quando fai stoppare la campana in Bloodborne ok l'indamericano errata bello bello eh ma siamo in forma oggi oggi è giornata oggi siamo stra in forma ragazzi stiamo andando anche noi out of bounds bravi tutti davvero un po' indietro mettiamo il passetto per e petto eccolo qua dai dai non far così oddio oddio non è una buona posizione non sono molto sicuro secondo me oddio no merendato merendato peccato merendato peccato eh ho saltato raga anche io ho pensato è l'unico modo per salvare la situa ho merendato di brutto amici mannaggia mannaggia sei riuscito a fare il salto laterale quindi questo no no certo certo ma credo ho merendato secondo me si tratta sempre di andare un po' più indietro and again 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 a qualcuno si blocca spero di no ragazzi io qui non ho un frame perso che fosse uno nice ok adesso sono più grande vero eh perché quando zoom diventi più grande sono così giri ma proprio sono io più grande cioè non è che zoom e l'inquadratura cambia divento più grande io nel mondo vero tipo uno stand ok oh questo è buono eh not bad not bad anche se forse no ancora no non abbastanza oddio no ma che cazzo era quello ma che cos'era silent hill non abbastanza diagonale cos'era quello oh questo doveva essere lo step facile raga è quello dove ci siamo stuccati e che è un classico è come quel try non devo dire che è buono va bene va bene ok ho capito ho capito qual è psicologicamente la cosa da fare raga è difficile e probabilmente non ci riusciremo mi spiace anche perché chiaramente Mike sarà deluso da questa cosa è così la vedo molto male posso dire la vedo molto male sinceramente non credo che ce la faremo vediamo ecco già la posizione è orribile noi ci proviamo a salvare la capra e i cavoli ma come dicevo la posizione era orribile mi riguarda un attimo il video di si di che ho fatto che ho fatto metti di più metti di più lontano ve l'ho detto raga la posizione era difficile the cape and the cables va bene vediamo lui è lui ha ok i piedini lì esatto un po' più indietro bloodborne pvp gg questi sono i danni che io faccio a voi poi fa roll pezzi in muro e poi va e poi va e poi va va bene proviamo si fa questo try raga no scusate intendevo dire si fa in questa live ok cioè prima della fine della live ci saremo usciti stacco alle mie 23 beh sarebbe tra tante ore 5 ore di live non so se Mike se la sente poi devo fare altre cose allora lui è esatto metti di comodo era così e poi faceva uno verso il muro no quello quello verso il muro è non è tattica è che può a volte non superare il geodata ma quello che ti consiglio di fare è metterti meno a ridosso ok ricordati quello che ti ho detto prima l'inizio e il consiglio che ti posso dare è di porti comodamente appoggiato al piolo senza stare lì sul bordo cose del genere ok raga però la cosa buona sapete qual è come diceva qualcuno in chat ora che non si muore cioè abbiamo fatto questa live senza morire ma in realtà tecnicamente sono morto prima merendando eh ma quello è un esperimento è vero chiedo ai mod di aprire una giocata io sono d'accordo sinceramente a ogni try aprirei la giocata mod facciamo girare un po' st'economia del canale allora ero asceso è vero è vero tecnicamente non sono morto bene allora esatto mettiti proprio non avere così paura di cadere qui esatto ecco secondo me è già così un po' meglio mi impiolo proprio eh sì sì e ora vado dritto verso il gargoyle in teoria sì è dritto verso il gargoyle vedi è già andata meglio non sei subito caduto nel posto sbagliato però ora devi riposizionarti un po' ok ecco comodo appoggiato al piolo che ne pensi non è male oh fuck però con un angolo leggermente più verso destra se ruoti in senso orario un po' il pg hai più chance di rimanere appoggiato perché il salto è meno sull'asse x certo 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 ok niente almost there no 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 raga deve riuscire cioè deve riuscire deve riuscire deve riuscire però ci siamo fermati tipo da 20 minuti secondo me su questo step gli altri li abbiamo fatti relativamente semplicemente io pensavo che il salto a sinistra sarebbe stato più difficile serve il puntatore maestrico è vero è quello che non sta mettimi un po' di puntatore devo un po' avere paura di cadere un po' sì meno di quanta ne avessi prima devo avere un po' paura adesso provo a a darti un puntatore maestrico aspetta qualcuno chiede ma tutto questo per vedere cosa e Cristo saltellante risponde i grandissimi esseri tipo the biggest essere è bellissimo comunque posso dir la cam un po' ha ragione a sudiscaldarsi perché fa un cazzo di caldo qui dentro mamma mia vip subito i grandissimi gli enormi esseri gli spazialest ok la prima scommessa è glitch entro i prossimi tre reset oddio il puntatore abbiamo vinto allora esatto sono arrivato col puntatore col montatore allora mettiti appoggiati qui e ok allora l'inquadratura abbassala leggermente in direzione ecco così secondo me parolo dritto allora mi sto anche guardando il mio videino fondamentalmente questo è il primo va bene quello che ti direi di fare è di allora gira leggermente in questa direzione la camera l'altra l'altra ho provato come se stessi spingendo ok perdonami ok no ma era incomprensibile non posso provare ok prova a fare un rollino verso non farlo perfettamente dritto farlo con 5 10 gradi verso destra ok cioè non deve essere un po' meno però si dovevi rollare non camminare altrimenti eh questo non è male ti dirò che non è male come potenziale oddio hai fatto un backstep no boh indietro ok ok il primo è andato la mossa la mossa non è male non è male inaspettatissima cioè raga l'SSD è stato sviluppato esattamente per questo momento no no tranquilli ce la faccio per chi ha scommesso sì in questi due try ce la facciamo secondo me già qua ci andiamo vicinissimi poi prossimo proprio lo facciamo in sciultezze non ti ho paura fantastico bisogna chiamare Murubut e di aggiornare la sigla con qualche frase sulle stagionate ok allora più bassa l'inquadratura allora mi hai detto inquadratura così ecco esatto leggermente come se spingessi in questa direzione il foglio esatto e non è male ti dirò non è male oh fuck ok prova allora non è che devo stare un po' più indietro secondo me vado sempre oltre secondo me come ti ho detto può funzionare in realtà funziona così se tu facessi un roll leggermente più in senso orario se ti pieghi più verso destra il tuo personaggio spreca un po' di movimento laterale sul muro e quando glitcha va nella direzione giusta però andare indietro è quello che ti suggerivo quando ti dicevo sei troppo incastrato tra piolo e gargoyle può funzionare anche da questa posizione perché se vai troppo indietro a quel punto rolli è vuoto diciamo ma ci sei vicino a questo punto a questo punto è una questione proprio di anche non dico RNG ma no certo ma è un po' sì perché sai il roll deve fare quella traiettoria esatto e giudata col sapone purtroppo eh questa non è no no questo non vale questo non vale questo non vale questo non vale i reset sono quelli del salto non del del fatfinger no no questo non vale fatfingerato questo non vale questo non vale lo dice il maestro lo dice il maestro lo dice il maestro lo dice il maestro questo non vale no ma giustamente perché il try è fare il salto fare il roll esatto no no giusto giusto scanno questo non vale questo non vale no no questo non vale questo non vale tanto ragazzi non lo faccio neanche adesso tranquilli E' il modo giusto per farlo Mike amico delle guardie Lui è le guardie Ok 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 allora Questo è un buon angolo Ti metti un po' Più verso piolo Ecco mi piace Però l'inquadratura Leggermente brava un po' più così E che insomma Odeon ce la mandi buona Oh no Oh prova un po' più indietro Prova un po' più indietro Secondo me si perché Così continuo ad andare oltre Aspetta che provo Ve l'ho detto che non ce l'avrei fatta lo stesso Ora provo Mi dispiace per chi è creduto in me Cosa? No niente che stavo cercando di invadere gente Ho effettivamente invaso qualcuno E ho trovato questo ragazzo gentilissimo Che mi fissava Da tempo in memore probabilmente Ok Che posso fare? Eh mi dispiace per chi ha creduto in me No Qualcuno mi può ospitare Ho appena perso casa Mi dispiace Ho iniziato io questa storia Ho perso 5k La rendiamo più interessante Facciamo nei prossimi 5 try Direi Gabri Invece di 10 5 5 Fai ogni 5 Adesso ce la faccio Mi odieranno tutti Però Quindi ce la farò Io vado un po' più indietro Eh un po' più indietro Vai Io intanto Fuck Adesso provo Provo a rifarlo anche io Ok Mettendoti nella mia posizione Esatto Esatto Come mai Continua a venire Io c'è più o meno Fammi provare a fare come hai fatto Te che sei andato due volte Verso il muro 5 try Questo compreso ragazzi Guarda il mio video Guarda il mio video Perché fatto quello Il resto è Pur con un backup Perché potrebbe essere Stronzo Geodata E difficulty 0 Questa è l'ultima cosa Che devi fare Perché io devo cercare Di farmi resettare Sul Oltre il piolo Non nella parte In cui sto cercando di andare Forse ho capito Una cosa nuova Da qui Forse ho capito Una cosa Nuova No Ecco qua Fatto Ok Adesso Prova Aspetta Prima di essere Sto merendando Sto merendando Sto merendando Sto merendando Sto merendando Aspetta Cerca di camminare Per essere sicuro Che non sia Sto merendando Secondo me sei Merda Ma che porco Di 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 Dai però Ci stiamo Ci stiamo avvicinando Ci stiamo avvicinando Tre try Go Sono 27 minuti Che siamo a questo step Ragazzi Lo possiamo vedere Dal backup Sono preziosissimi Ci stiamo Ci stiamo Ci stiamo Io intanto provo Faccio sapere Hanno fixato In questo momento I glitch Ragazzi Fermateli Fermateli Però vedete Che Adesso sto Riuscendo meglio Perché sto Facendo una cosa Vado contro Il gargoyle In realtà Anziché andare E tu devi Cercare di superare Il gargoyle In realtà Ci facciamo Un'altra cosa Però Era quasi venuto Era quasi venuto Sì Sto merendando Sto merendando Oddio Oddio ti prego Sto merendando Di brutto Si muove Il personaggio Sei sicuro Si muove Fammi vedere Se il personaggio Si muove Si si muove Credo che si muove Back up Immediatamente Siamo sicuri Che si sta muovendo Sì Back up Presto Prima che il merendero Serbi Facci il gioco Ok perfetto Mike sa come Mettermi paure Ok Adesso è veramente Fatta Puoi ancora Scivolare Bravo Non dirlo Non dirlo Non è fatta È fatta Quando L'abbiamo Portato a casa Sì sì Ora Ti Ti pingo Il culo E andrà tutto Benissimo Grazie Grazie Pingamelo tutto Se ti piace La frutta C'è Della Ok Speso tutto Saido fallisci Ti prego No Si è fallito una volta Basta Defeat is not an option Rolla in avanti No Tengo famiglia Allora Adesso Tu devi fare Questo giochino Puoi farlo Ti dirò Anche Salvo Quando sei proprio Qua all'angolo Puoi farlo Con un po' Di coraggio Io Oggi All'inizio Della live Durante il pre-show L'ho rifatto Da capo Lo skip E Camminavo Qui Mi sentirei una merda Durante il pre-show Mi scaccolavo Sai donia L'ottuso Però Il pericolo Quello che non ti permette Di renderlo facile È che qua puoi cadere Cioè Non è che Non puoi appoggiarti Se ti appoggi Corri e via Non puoi appoggiarti Ok ora basta Io mi girerei Esatto Fai un passetto Madonna ragazzi Sta tutto quanto Inturbantato Non me lo ricordavo Così Metal Gear Va bene Non male Non male Ok Girati No Aspetta 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 Guarda Sì sì Se non è un altro passettino in avanti Lo facciamo Vai 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 Ti va a piacere Sì Ok Ti va a piacere Ok 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 Vai Oddio Qui è dritta Quindi puoi essere Non mi piace molto la posizione Però vedi Non è così tragica Ti dirò Perché il personaggio Al baricentro Non è da onde No no Tu sei al centro In realtà sei perfettamente al centro Sei in un'ottima posizione Solo che non farlo camminare in diagonale Ecco Vai dritto Stai camminando dritto Perfetto Madonna ragazzi Sto tutto cacato Ok ok Passettini C'è un'altra curva dopo Sì c'è un'altra due curve Eh sì c'è ragione Eh no avido Oh brutto Eh ma questi passettini No no avido Ok Essere avido di passettino No Hai rollato Ma neanche no no Ho solo fatto troppo avanti Hai fatto la corsetta Sì esatto Allora adesso puoi Due try ragazzi Abbiamo due try ancora Ora puoi anche provare a camminare un po' Per fare prima Eh ma abbiamo due try maestro Ah due try per le scommesse Ok 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 Dai 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 No questo vale ragazzi Certo che vale Certo che vale Cioè qui Stiamo andando bene No no Abbiamo ancora due try ragazzi Abbiamo ancora due try Posso farvi vincere questa scommessa Secondo me Ve la fa vincere Perché Il try comunque era espressamente detto Che fosse del salto No io l'ho interpretata come Finisce questa cosa No 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 Secondo me non avete ancora vinto Secondo me oltre La cosa trasparente va bene Esatto Qualcosa da fare dopo Va bene Però questa istruzione Andava finita In tot try Doable Secondo me Nulla di quello che ti aspetta adesso È difficile Come quello che hai fatto prima Quindi Mezz'ora fa Bello Occhio qua Esatto Quando hai tanto spazio davanti Il passettino vispo Lo puoi fare Quando sei ai bordi Non più Perfection Ok Buona posizione Sono tutto cagato No 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 Niente a maiale raga Niente a maiale Non me la sento No l'hai già fatto il maiale Hai fatto un metro pieno Correndo adesso Quindi basta Soddisfatto Ok vai nell'angolino È un modo per dirmi Che sono stato in cauto Ma il maestro vuole essere sempre gentile Ti ho detto io di camminare Quindi sei stato coraggioso Ti dice coraggioso Ecco ecco Ora girati Bravo bravo Sto pieno di merda Stiamo andando Vedo dei movimenti strani Stai andando Bene Non sono Non sono preoccupa Non sono preoccupato Adesso ancora un po' In avanti Sì È l'ultima curva È l'ultima curva È l'ultima curva Oddio La camera fa cose Bravo Metti lo scroto direttamente sopra la punta Esatto Della stacionata Eh lo sento Lo sento che punzecchia un po' Lo scroto Ora È un po' di diagonale Allora Senti Se ti va Puoi fare un altro backup Hai vinto Anzi Fai scomparire il personaggio Per considerarti vinto Eh no Infatti Infatti Fai scomparire Iro Non in diagonale Non ti mettere così Tanto Non so che devo fare Analogico Dritto Oh Così Dritto Cazzo Niente Dritto Cazzo Sì Niente Ok Niente piselli storti Ok perfetto Ottimo Vai Backup Sì 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 ci sei Lo consideriamo completato Sì sì Hai O vado ancora un po' più avanti Puoi andare un po' più avanti Ma secondo me ci sta completato Tanto che Ora non può succedere quasi nulla di male Se non rolli o Fai pazzia Ok Ora direi che Sei Sei entrato È fatta Ok È finita eh La prossima parte non l'ho mai fallita Quindi è infallibile Pronti Prontissimi Pronti a fallire Pronti Vai Vai Bravi ragazzi Abbiamo fatto al penultimo try Dai E dagli questi 10k Bene bene Ah giusto avete fatto un altro Un'altra Scommessa ora su questo Beh mo punteranno tutti sì Credo Ora in effetti è genuinamente Finita la difficoltà Ora è un Ah cazzo In caso Ok Adesso Esatto Entra completamente Nel Nel Poco no Ma poi sì Immaginati di dover girare intorno a questa colonna alla tua destra Come se fosse Una torre circolare Una curva stretta a destra Senza esagerare E come faccio a sapere quando devo curvare Curva già adesso Curva già adesso Comincia a girare verso l'estero Questa è la parte facile Mike Non vedo neanche Ti assicuro Ti assicuro E questa è la parte facile Quindi ora vado a destra Se vuoi puoi guardare anche il mio video eh Ecco Bravo Gira un po' Ci vado per vedermi Ecco Guarda questo è ottimo Alza Alza l'inquadratura Alza Basta No Fermo Vedi quella è la staccionata che devi raggiungere La vedi Tu sei là Sei lì qui dentro E Ah devo andare lì Da lì sei arrivato Da lì sei arrivato Sì 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 Devo andare nell'altra staccionata Esatto Quindi è poco Cioè devo Devo curvare poco Esatto Da qua sei entrato Ok Gira Sì devo uscire adesso Tornando indietro Capito No Guarda No Guarda il video Guarda Hai un'inquadratura corretta eh Ti aiuto io a voce Ok Ferma solo l'inquadratura In una posizione che posso descrivere Ok Aspetta Ok vai Alla tua destra È il luogo da cui sei entrato Ok Tu sei entrato qui Così Ok Ora gira la telecamera Gira 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 Ancora Ancora Basta Devi essere qua Quindi tu sei arrivato qua Ah devo uscire lì Fermati Ma so Ok Adesso Ecco Ok Ah no Capito capito Io sono entrato da qui Tu sei qua Devi fare questo angolo Sì 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 Non avevo visto questa ringhiera Ok perfetto Perfetto Non è così difficile Allora Dritti com'è Che siamo Aiuto Tu sei dritto Da dove siamo entrati Da qua Da qua Sì Allora vado a destra Esatto Un po' più avanti Vedi che non si muove il personaggio Aiutateli con l'inquadratura Un pochino Perché sennò è Panic Ecco Questa è buona Usa quella diagonale Così vedi il personaggio che si muove È questa Questa non è male Cazzo sono Questa non è per niente Sare qua Tu sei qua Tu sei qua adesso Provo a girare Allora a sinistra In questo caso No aspetta Io da dove vengo Da qua Devi fare questa curva Ah ok ok Andiamo ad andare Questa Giù adesso In teoria O forse ancora non so Diagonale Ecco così Ecco ecco Questa è la tua arma Vai giù 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 Ah ma quindi questa colonna Ha come dire Una hitbox più grande Cioè una Sì Un terreno più grande È più morbida Ah Per questo è più facile Ok Adesso Continua 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 No dritto 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 No ragazzi Questa è la rinchiera Io non che Ci sei Ci sei Eh un attimo un attimo Mi sto Allineando Ok Vai 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 Aspetta mi metto dritto però Perché Vai Vai Disastre Qui hai la curva Sizzoronia Qui hai la curva Della difficoltà precedente Però ormai la conosci Ah abbiamo saltato la nebbia Esattamente Quella è l'arena Madonna che bello Sto New Game Plus ragazzi Di fuori Guarda Quando Se ci riesci Avrai un premio Promesso Qua Pensa Non darmi neanche un premio Allora Ho fatto una cosa In chat dicono Sono confuso Forse più di Sido E sarà facile da spiegare La chiarezza Vai No più di me Impossibile amici Ok Sto andando molto bene Fondamentalmente ragazzi I Souls In particolare Sono abbastanza semplici Nei trigger Ma i videogiochi In generale Per qualunque evento Che tra l'altro Sono eventi Che vi ho fatto vedere Durante il New Game Plus Di Elden Ring Gli eventi Sono delle zone In cui si innesca qualcosa Come prendere un pulsante Di una trappola Se non Tocchi la nebbia Gascoin Non è un boss Non si muove È fermo vero Sì Ma se backupassi Guarda Puoi farlo se vuoi Ma in realtà È danciad No Nel senso che tu puoi fare Molto maiale qua Ok Ora Qui no Ma tutto il prima Puoi farlo abbastanza maiale Quindi non c'è bisogno Di un backup Vai 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 Gira a destra Continua Qua 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 Go Go Rolla Rolla in avanti Vai You did it Oddio Guardalo E quindi lo puoi ammazzare così Eh sì Tu lo ammazzarai così adesso Benissimo Say no more Say no more Pettam Posso fall ilyenki Backstab Oh dear Aspetta aspetta Vediamo In teoria Non succede niente Però vediamo se col carion fa qualcosa Ora invece lo riattivo col carion Niente Non fa niente Perché non ha caricato proprio la ya Una cosa che ho provato a fare io Per attivarlo È stato arrivare Sull'entrata della nebbia Ma non è neanche quello Devi proprio andare Mid Guarda il Gasconiega Che botte che sta prendendo Ok Sei un grande Grazie Lo binocolo Lo binocolo Va bene Ma non si trasforma neanche in belva In teoria No Zero Guardalo là Eh sì Gasconiello ottuso Devo fare qualcosa di originale Però ragazzi Vediamo se riusciamo a portarlo fuori dalla nebbia A forza di Backstab Se il Backstab non faceste danno Sì Ma Purtroppo Eh gli faccio tanto danno Gli fai un botto di danno Eh ma poi è bloccato qui Non posso distruggerle queste Solo lui le può distruggere Solo lui sì Va bene Ciotto lì Aspetta un po' di Molotov Coglione 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 Aspetta Perché posso tirare Gli tiriamo i coltelli avvelenati Bello Ha 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 Sarà avvelenato Si può avvelenare Gasconi In teoria Però secondo me Non si avvelena nemmeno Manca il Manca la nuvoletta Se moriva Moloto Oh Bene 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 Accannonate Abbiamo troppi proiettili Noo Cazzo Non posso ricaricare i proiettili In nessun modo Noo Lo spingo un po' però Guarda Lo spingo Lo spingo Vediamo che succede Se lo porto fuori Sì sì Tanto Cazzato non mi faccio nulla No Con i cazzati così Non mi fai niente Dai 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 lo portiamo fuori raga Raga lo portiamo fuori Però aspetta Se lo porto fuori Poi come lo colpisco Posso attraversare la nebbia Cazzi tuoi Ma come cazzi miei Posso o non posso Non credo tu possa più Eh però è worth it ragazzi Fare questo esperimento È totalmente worth it Ma scherzi Cioè provare a buttarlo fuori Secondo me ci sta No salva no Al contrario Non devo salvare No adesso no Ora è troppo tardi Però siamo qui Dai Fatemi provare No non va Eh Immaginavo Invisible wall Come i lupi praticamente Sì E come anche te Anche io non posso Eh sì giustamente E se pigio x No Solo da un lato Ci sta Un quick exit Dove ricompare lui Oddio Clippiamo probabilmente con lui Però dove compare lui Non lo so Se si resetta O magari facendo quick exit Andiamo fuori banalmente Perché siamo nell'area Della nebbia Secondo me Secondo me se facciamo quick exit Torniamo indietro Cioè vai fuori tu Secondo me Non più Secondo me il geodata Ormai è dentro Del personaggio Ah sì Da qui forse Perché magari Ti va dietro Però in generale Se sei in arena no Perché la boss fight Non è cominciata A meno che A meno che il gioco Non intenda L'arena Con la nebbia attiva Per qualche ragione Il trigger Per portarti in quick exit Fuori dall'arena Però non si può sapere Vogliamo provare Stiamo facendo porcate Vogliamo provare Prova Tanto al massimo Devo rifare il pipirippi Tanto ormai L'hai fatto Nel senso che non è neanche necessario Può anche Però sì sì Se dici tanto l'ho ammazzato Però voglio Cioè voglio ammazzarlo così Scusa No è molto soddisfacente Te lo meriti Te lo meriti Secondo me Ci butta fuori Eh se viene intesa L'arena Come luogo A priori Di uscita Se c'è la nebbia attiva Location di gioco If then Esatto Cosa? Ah madonna Weird as fuck Ok This was unexpected Va bene Va bene Siamo tornati Semplicemente qui Ma le lapidi Sono rotte Va bene Sì Quindi ora puoi provare A fargli il backstab Finchè non lo butti fuori Sì A voglia Perché dici È girato Bene ora Ma in realtà Se vado dritto Perché dici che col backstab Essere tipo una presa Come quella del Esatto Non gli faccio il visceral Ma secondo me ce li hai Abbastanza visceral Per farlo andare fin là Col pugno Ma targettalo E c'hai ragione Ecco Mena Mena Guarda come va Guarda come va bello dritto Esatto No Non ti girare troppo No Bravo Bravo ragazzo Eh c'è il muro invisibile Ma il visceral potrebbe andare Oltre il muro invisibile Sì Potrebbe anche non farlo Però Sì potrebbe È più no che sì Ti dico Però Vai prova Tutto nel culetto Eh No Va solo con la testolina Ok Kill it with fire Beh lo uccideremo così Tentando Perghiettalo Per l'amor di tutto ciò che è sacro Come sangue antico C'hai ragione C'hai ragione Dai magari troviamo il punto strano Dei geodata E lo buttiamo fuori Cerco di Esatto Spingerlo da quest'altra parte Non ce l'ho più il cannone amici Dai Buono No No Lui sta comunque perdendo vita A voglia Ok Fai il backstab Mentre Giri la telecamera E lo guardi Ok Così Eh no però Eh devo far veloce Sì No Fai partire il backstab Eh esatto Eh vedi Non ti fa neanche vedere Dove No Era per provare Oh ma Quando muore Sono comunque backstab senza arma Ma muore vero Sì vabbè però Voglio dire La tua arma ha le gemme? Adesso? Mi sa di no Sì Ah ok Aspetta che prendi la lama E la secoltura Eh se gli prendi la lama Vedrai che muore Molto in fretta Aspetta No Non ho sbagliato Ok No Reda uccisa Ed è andata via anche la nebbia Ragazzi è stato bellissimo Sono contento Abbiamo ancora i nostri 50 minuti buoni Adesso Prendi la gemma di viola Sì La tipa che sta sottetto Aspetta che accendo la La madre della bambina E io Ti do Il regalo in opzione Hai una scelta Ok Hai una scelta La scelta di cui parlavi Sì Esattamente Esattamente Ok Presa la spill Preferisci Guarda che Allora È un Non è un Aubi permanente È un First now Cioè first and then Ok Ora questo In futuro un altro È l'ordine degli eventi Ma devi sceglierlo tu È Gamification Va bene Preferisci Un Power up O cat content Cat content Boom Senza neanche Pensarci Va bene Torna al sogno del cacciatore Non sono stupito Devo dire la verità Ah sì Sapevi E beh Mi conosci Troppo bene You know me too well Allora 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 Dimi tutto Adesso Adesso Vai a Creare un glifo Cosa devo creare? Un glifo Un calice Un chalis Ok Tolgo Ptumeriana maledetta Toglielo Va bene Rituali del calice Ci sono Sì online Per poterlo fare Non sono online Quindi devo uscire Esatto Matti si è buggato l'audio In che senso raga? Io lo sento bene Anche il suo gioco È in ritardo? C'è l'audio del gioco Tutto corrotto Ma che cazzo di te? Lo sento normale Anch'io Quindi chissà se È distorto da un po' Ah il doppio Vabbè Quello lo è stato fin dall'inizio Mi sa È solo doppio Ah no Lo è già Lo era già dall'inizio È colpa del setup Americano Un attimo Sembra che sei dentro Una bottiglia di vetro Cosa? Eh vabbè Perché l'eco fa quello Certo Ora come lo sentite? Io però così non sento niente Oh no Ora come lo sentite? Sì è tutto metallico Vedete qualcosa ora? Bene Eh però io non sento Quindi non abbiamo risolto un cazzo Fatemi provare una cosa Ora Ora Eh è laga Ora laga Ora è in ritardo no? Io lo sento bene Ma perché mi arriva dalla console Non so po' Non so po' Non so po' Non so po' Mi dispiace Vi dovete tenere il lag Perché Altrimenti lagga E mi dà fastidissimo Oppure non sento E mi dà ancora più fastidissimo Eh ma ci sta comunque Alla fine È bellissimo Che stiamo facendo questa live No no è troppo in ritardo ragazzi Niente niente Quindi Andiamo così Ora voi lo sentite bene Ma io non sento un cazzo Di Facciamo così? Così raga? Meglio? Così forse non è doppio Post Risolto Pronti Ah yeah Ah hai pigiato di nuovo offline Mi sa Ma quanto sono un pezzo di merda Mike Vabbè ero concentrato su questo Esatto esatto È lo spam classico Eh sì purtroppo Qui da questo setup qua Dobbiamo alzare il volume dal gioco Perché se no se lo alzo Alzo anche il maestro Procedo ad abbassare il volume e basta Ora è a posto No 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 ho fatto questo Ho fatto un'altra cosa E piuttosto alzo il master di uno di tutto Raga ma il fottuto nitro cosa? Cos'è il fottuto nitro? La voce già al massimo Diamo gli due punti a tutto Poi ricordatevelo Ricordatevi che Abbiamo dato due punti a tutto Se no a casa ci stanno Poi guarda nella lapide antica Quanto il carving È più chiaramente un uomo Un uomo a testa in giù Sì sì Ho pensato esattamente questa cosa Cerca per Glimicale Ok Cosa scrivo? E tu pensa alla magia Che non stiamo installando mod Cioè sei in Bloodborne A R K Ok H Ok V 2 V S Vado Profondità 0 Non ha neanche un nome E non appare neanche un calice È molto rotto Adesso Visto che non è che funziona benissimo Allontanati Infatti non me lo fa neanche Allontanati e riavvicinati Ecco Ok va È pronto? Camera del sigillo Sono pronto Sei pronto Ma che cazzo è? Bro Ma che cazzo stai dicendo? Ma dove siamo? Ma anche la location è inedita Tutto inedito Questa Minchia che brividi La musica è bellissima Tra l'altro Questa sarebbe stata Ma che bella è? Bellissima Alpha Totalmente priva di mosse Geodara sbagliati È tutto incredibile È stata ripristinata Dagli appassionati Questa sarebbe stata È glitchato Si prende danno a caso A volte Si perché lei avrebbe Qui stava facendo proiettili Magari capito? Ah Questa è la Great One Beast Great One Beast Forse sarebbe stata Comunque nei calici? Possibile Questa sarebbe Molto probabile Visto che era un po' Il punto di unione Che ti faceva capire Più chiaramente Che bestie Che bestie e grandi esseri Derivano dalla stessa origine Questa è la Quando ruggisce Si Spara proiettili Esatto E qua stavamo Facchiamo di curarci Vedi qua ti facevo Evocava qualcosa Sì Morte Questa È il grande essere belva Eh sì 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 ha senso Il grande essere belva Questo è il grande essere belva È morta ma la musica Ma la musica è unica? La musica è Tipo anche lei in alfa Avevano in mente Di pubblicare E fare qualcosa Non è rimasto niente Purtroppo Sì ma quindi dico Non ce n'è Cioè non c'è questa musica In altre parti del gioco Perché non la riconosco È unica E tra l'altro È unica Praticamente Loro avevano anche in mente Di fare Quello che hanno poi fatto Con Sega Con le boss Rush e così via Ma è tutto beta È tutto Alpha Anzi Loro tuttissima Peccato che prenda Un sacco di mazzate Fa veramente schifo A livello di HP Ma quello che cos'è? È chissà Sono dei calici Guarda È tutto perso Sì questa è vero È quella degli Ptumeriani Non è completamente unica Ah la musica? Sì Ah mi sbaglio allora Ma poi in questa sala Con queste colonne Stanno spiegando Perché sembra unica È perché ci sono Tutte le host dei boss Soprascritte Una sopra l'altra Quindi è un casino Ah Cioè sta riproducendo Tutte le musiche Delle boss fight Dei calici insieme? Sì Scusa Scusa fammi concentrare Fammi sentire Molte non so se tutte Ma molte Fammi sentire Eh si capisce Che sono tanti Eh ma sono Sono tutte Nella stessa tonalità Perché non Non mi sembra Sicuramente non sono tutte Perché Manca quella del Del watchdog Mi sembra tanto ordinata Per Per essere una roba Dove tutto si sta riproducendo Sto spiegando in chat log Dice Questa boss fight Sarebbe stata presente In una boss rush Di tre boss Quindi ci sono tre host Provo a alzare il volume Raga Non sento l'overlap A me sembra ordinata Volume alto Ci sono delle percussioni Se senti bene Che non c'entrano niente Ma sono quelle Sente Fuori tempo Sì non è cacofonica Come potrebbe essere Sentite qui Ci sono stati due piatti Che non c'entravano Ora qua si è sentito Qua si è sentito Qua si sente Qua sono proprio cose diverse Però Cioè Il fatto è che è incredibile Perché Sono tutte Nella stessa tonalità Quindi non c'è nessuna nota Che suona come stonata E sembra volutamente Caotica Cioè C'è una musica simile In Shin Megami Tensei 5 Ed è figa Proprio per quello Oddio questa Guarda c'è una donna Sono due Donne Ma l'abbiamo mai visto Questo asset Forse nelle porte Sai Eh sì Forse più piccolo È figo No io Mi hai fatto veramente Vedere una cosa bellissima Mi ha Emozionato un botto Quando sono arrivato qui Ma posso andare avanti Posso provare O cado No non puoi fare niente qua Prova a buttarti di là Qua non ce le puoi Di là puoi cadere Però morire Esatto In teoria E se qui che esito? Allora conviene Che tu muoia Non era per Provare andare qua Capito? No Non Non credo che possa Aspetta Aspetta È È bellino Ma non penso Ti serve Ti serve Il jailbreak Che il jailbreak Ah ok È però così troppo facile Col debug Esatto E noi vogliamo tutto Relativamente legit Mamma mia L'arena è quella di rom? Però non ci sono shader Quindi riconosce Però in effetti rom Oddio è risorta? Eh sì 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 perché questa è È vero potrebbe essere rom Quello Perché con tutti i ragnetti Ci si distrae È vero Sembrava un'arena unica Questa Non è detto che lo sia Vediamo se Mi aiuta Il colonnino No vedi No no ma Cosa sono? Non lo so Eh Eh però voglio vedere Un po' più di movimenti Mike Trovo Ok quando ruggisce Fa malissimo Quindi ha un attacco Che è un proiettile Ruggente Via Via Eh niente Troppo tardi Più o meno ho capito Il timing Potrebbero essere Anche i fulmini È vero Cazzo Ok Si possono rompere Gli arti Chi lo sa Cazzo Sono morto E se muoio Dovresti uscire dal Ben altro Adesso ti faccio vedere Ok Ho due video per te Dov'è? Preso botta Me li riesci a mandare Come prima Come WeTransfer Senza farmi fare Screen capture Ah Sì Sì Li scarico E te li passo Sì Per problemi di setup No problem Ci penso io Eh col marchio del cacciatore Esco ragazzi O battendo il boss E buttandoli Adesso Ho una chicca Che Chiedo alle chat Di non commentare troppo Ok Perché è una chicca Che potrebbe avere I livelli di lettura Su cose del New Game Plus Per chi Sa tutto Quindi occhio ragazzi Ma Ma E io La reazione Quanto meno Nella mia chat Me la godo un po' In realtà Questa boss fight Aveva anche Un nome proprio Eh Non mi hai detto Che era The Great One Beast Sì Ma è Una definizione The Great One Beast Che sta facendo? Che sta facendo? Eh appunto Quello che ti ho detto prima Sembra Una sorta di Evocando qualcosa Però in realtà Adesso vedrai meglio Ma Aveva Un nome proprio Oltre a definizione The Great One Beast È un po' come quando vedi Gwyn Lord of Cinder Ok 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 E il suo nome sarebbe stato Faun Faun? Fauna 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 Come Parle Esatto Quindi Fauna The Great One Beast Esattamente Fauna E questa cosa Avrà una reazione Nei veterani Ho capito bene Sì A me però Oddio Questo attacco Avete visto C'è anche una charge Lo tengo qui Voglio vedere Se fa dei pattern Qui c'è una bella reazione E tra l'altro Questo non so se te lo ricordi Perché è proprio Early live Ma in class è giusto Ricordartelo In early development Bloodborne Aveva le anime Come drop Solo che erano fegati Sì E anche il fegato Ha un nome nei file Esiste E adesso te lo tiriamo fuori Per farti capire Quanta ciccia c'è Quanta ciccia c'è Intanto io ti preparo Il Wii Transfer Carino Su New Game Plus Madonna No Sta roba Fuori di testa Ragazzi Ragazzi Si è fermata la musica Oh Oh L'audio va Vediamo cosa succede Dove arrivo Allora Ti Ti metto il link Lui mi sembra di essere Tornato in Pokemon Eh Capito Eh Sto facendo tipo Voglio trovare Mew Sotto il camioncino L'intera orchestra Si è affacciata Per vedermi cadere O no Oh no 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 Oh no 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 Stava avvicinando Stava avvicinando minacciosamente Mike Esatto Come è esatto Credo Come vado via di qui Credo che quando hai Quando sei Quando hai fatto il quick exit Prima Gli hai mai Gli hai registrato la posizione qua E non nel sogno del cacciatore Devo fare il backup Sì Siamo per sempre qui Esatto Ti ricordi quando ti ho detto Occhio e backup Perché altrimenti Kiro lo perdi Questo è un esempio Fortunatamente Abbiamo un backup Assolutamente Però se muoio Se muoio di sotto Secondo me Se muoio di sotto Potresti Oh ragazzi Sono andato dall'altra parte Secondo me Se muoio di sotto Potresti riapparire Fuori dal sogno Cioè io sono uscito nel sogno Dopo averla combattuta Mentre Ti dico Il suo oggetto La sua anima È Fegato vivente Di fauna La belva d'argento Perché è anche Elettrica Ok Vediamo che fa Oddio Oddio Eh sì È il fondo Vedo Ma c'era C'erano dei mattoni Eh Sì Fromm lo fa È come anche È come i mattoni Dei quattro re Come i mattoni Dei quattro re Sono stato Merendato Ok Lo sapevo Cioè al meglio Non lo sapevo Lo speravo Perché a me è successo E temevo Che avessi registrato La parte sbagliata Ok Io è salvo Ti ho mandato Ti ho mandato Cose importanti È bellina Ok Allora aspetta Che scarico Stai facendo una cosa Molto importante Assolutamente Guarda come è uscito Tutta Tutta la Puppa La Puppa Sì Tutto il succo Tutto il succhino Di frutta Eccola Perfetto Allora Questo è il meme Di questa Di questo Di questo Di questo Ma non me l'ha scaricato It's not Scaraking Transfer But I was transferred What is this? Cerca Cerca And because I have to Unzip One more time Yeah We're gonna celebrate Qual è la prima? Unused Magnificent Beast O Bloodborne Mod Trailer? Vai su Unused Magnificent Beast Va bene Impronunciabile Unused Magnificent Beast Ok Vado? Vai Però devo togliere La musica Pisellica Audio questo video? Sì toglilo Appena puoi Lo tolgo? Sì 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 toglilo Questo toglilo Non serve Il mia seconda allora Scusate Non essendo da Casina mia Metto un po' Di più Forse lo sentirete Sparato All'inizio sì Poi lo abbassi Per farti capire Cosa fanno Gli appassionati Dei Souls Nelle opere Di From Software Per le opere Di From Software Non vedo niente Media Source Eccolo qua Ok Ora lo sento Questa Che cos'è Il modello tirato fuori? È ripristinato Quindi aveva Questo shader strano Guarda che capolavoro Non vedi Quanto Per avere Esatto Esatto Vedi Guarda Poi zoom Se vuoi Guarda bene Quando zoom Anche lui Vedi Quanto è Palesemente Questa è una cosa Da brividi È Una belva Con tratti Di grande essere Troppo bella Sta roba È incredibile È vero Essere bestia Perché alla fine È solo la forza Cioè Della Della belva Che genera La definizione Grande essere Esatto È veramente Ah guarda Ha Ha due paia Di gengive Eh sì Come i draghi Di Demon's Souls Cioè questa cosa È preziosissima Perché togliere una roba così Ma perché non l'hanno finita Esatto Magari non li convinceva La fight Ok vado con l'altro video Vai con l'altro video È un trailer Invece Di Quello che stanno facendo O hanno forse già fatto Di ricostruzione Della boss fight Della Vado Vado E non è creativa È fatta su ricerca E dati numerici No certo Di attacco eccetera Il nome fauna È particolare Beh Figo che vi dica qualcosa E a me niente Vuol dire che Sto New Game Plus Veramente avrà tanto da scoprire Eh Te l'avevo promesso Sono contento Guarda che hanno fatto sì ragazzi Altissimo Ecco perché ti colpisce Esatto E alcuni di questi asset Sono dell'orfano di Koss Quindi li hanno usati per lui Aspetta che non ti sentivo bene Perché siete sullo stesso canale audio Tu e il video Dicevi? Che alcuni di questi asset Sono stati utilizzati Per l'orfano di Koss Sono suoi Ah ok Molto bella Probabilmente rispondo ai ragazzi L'hanno tolta perché Non hanno lavorato in tempo La boss fight Non è questione di Ci fa schifo quest'idea È questione di Non abbiamo finito in tempo L'obiettivo che avevamo Non passa il quality check Non lo sapevamo Quello che vogliamo fare Fine Purtroppo non lo sapevamo mai Però verosimilmente Sembra molto avanzata Come modello Quindi Poi magari è solo un conto di boss Tipo raga Ne dobbiamo mettere 50 massimo Perché pensiamo che questo sia il senso del gioco Questo è il 51esimo Lo togliamo via Però da Da quanto appunto è curata Secondo me è più una questione di Non abbiamo fatto in tempo A terminare il lavoro su questa roba Del resto I Chalice Dungeon urlano questo C'è tanta roba Che non è stata fatta in tempo Sì Tanta 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 Game Freak l'avrebbe messa in completa No Game Freak ci avrebbe fatto un trailer Game Freak ci avrebbe fatto un bel trailer Ma Tom 2 ore e 40 di live Ma quando? Eh capito Stiamo Io sono appena venuto in sala LAN Che vero Eh Guarda ecco Che il New Game Plus Faccia questo effetto Oh my god Sono felice Molto felice Beh Vuoi fare ancora qualcosa In questi ultimi 10 minuti Io purtroppo Oggi devo staccare A quell'orario Perché chiude la sala LAN No no Io sono d'accordissimo Con il farti dare la gemma Alla bambina Per tra virgolette Chiudere la quest Fino al punto in cui È stata chiusa E Yips Si si può tranquillamente salutare Perché tanto io ho già il piano perfetto Per la prossima live Centrale Dimmi Eh guarda La cosa più comoda Che puoi fare Grande ponte Va bene Sono a New York ragazzi Sono a New York Per un evento di Red Bull Che sarà streamato domani Dopodomani Legato a Street Fighter Un torneo mondiale C'è una finale mondiale E quindi Sto streamando da una sala LAN Per chi non si fosse collegato All'in sala live Purtroppo Alle 7.30 mie Che sono le vostre Mezzanotte e mezzo Ora sono mezzanotte e venti da voi Giusto? Eh sì Mezzanotte e venti Ecco Alle vostre mezzanotte e mezzo Mi chiccano Giustamente Perché insomma C'è anche altra gente Ma guarda Non soltanto La prossima live Sarà figa quanto questa Ma Ci cominceremo Questa è stata bellissima Mike Questa è stata molto più bella Della prima secondo me Sono contento Mi hai fatto fare tutte le cose Che mi piacciono ai videogiochi Mi hai fatto fare glitch Mi hai fatto fare cut content Questo cut content poi Quellissimo Cioè Non ti nascondo Veramente la metto Tra le mie top live di Bloodborne Fa un contentissimo Veramente divertente Entusiastissimo E considera che Dalla prossima Cominceremo Continua così Stendendo bene Giù dalle scale a destra E considera che Cominceremo anche a parlare Dei fegati Di quelli che ti droppano Bravo Sì lì l'ho vista Parleremo dei fegati Che come ho detto Sono le anime Sostanzialmente Dei boss Sì Che io rimpiango Devo dire la verità Sì perché in un gioco Così criptico Qualcosina in più Ci avrebbe aiutato Qualche drop in più Legato al nemico Esattamente E vaffanculo Ora non so se lo definirei Migliore episodio della serie Ragazzi Ne sono stati tanti belli Però È stato veramente Molto divertente C'è chiaro che L'episodio Pregno di storia È certo Di sorpresa Secondo me Non lo può battere questo Né lo vuole fare Però È molto Molto interessante E tra l'altro è stata anche la live In cui abbiamo scoperto Questo update fantastico Della condivisione schermo Già Già Migliore episodio di oggi Va bene ragazzi Va bene Siamo in forma Siamo in forma Ne hai toccato il culetto Poverina Sì Questo in italiano Itta di più Itta di più E Poi ti farò sentire Un dialogo Extra Segreto Che ottieni Se non le dai la gemma E cala la notte Ah quindi Saremmo dovuti andare avanti Nel tempo A quando Ok viene notte Posta meglio Perché l'ebra muore in teoria Quick exit muore Eh non c'è più Esatto Giusto Ora piange ancora Ma se faccio quick exit Mi dovrebbe dire tipo Non risponde nessuno Ah è vero Sparisce Sì Eccoci qua E con questo Abbiamo praticamente terminato La parte iniziale Di Bloodborne Sì Esattamente Abbiamo fatto gas coin Abbiamo finito queste Quest Oddio no manca il malatino Il malatino Abbiamo già parlato Manca il fatto che ti regali Ma deve ancora morire Però per morire Deve far Il malatino Mi pare che lo facciamo tardi Il malatino Diventa belva Con la luna rossa Eh Mi immaginavo Mi immaginavo Perde il controllo A caso della luna rossa Beh Beh Signori È stato incredibile Streammare qua Da New York Soprattutto perché Con una Red Bull Sulla camera Ho davvero evitato L'overheating Questa è la cosa più divertente Che è successa oggi Scherzi a parte Sono felicissimo Di essere riuscito A streammare Anche da qua Anche insomma Lontano da casa C'è da dire Che tra Red Bull Che mi ha aiutato tantissimo A trovare questo posto New York Che è New York E non Poggibonzi E il maestro Che ha preparato Delle splendide cose Vorrei Mettere l'accento Sul fatto che Questa live È preparata Non è che Mike Si è collegato In New Game Plus E ha detto Vabbè dai ora Improvvisiamo Fai questo C'è uno script C'era chiaramente Uno script In questa live Quindi Cioè Va fatto un plauso A Mike Che in New Game Plus Continua a creare content Per me Anche dopo che Sono passati Per due volte I titoli di coda Non scherzo È veramente una cosa figa Queste live Sono molto più difficili Perché nelle live New Game Sai è il gioco Che ti guida Lo script Te lo dà il gioco Ma qui Si deve inventare Tutto Mike Perché queste live Davvero possono essere Niente e tutto Invece ha preparato Uno script stupendo Oggi mi sono davvero divertito Non so voi Ma per me è stato Tre ore Sono volate Che bello Ti ho preparato anche il video Per essere sicuro Che tu potessi avere Anche una rappresentazione In caso di Sono contento Che abbia funzionato Tutto così bene Bravissimo Sì sì Giusto SkyGrow Grazie Giusto Giusto Lo facciamo adesso Perché non si sa mai Lo facciamo adesso Devo caricare il salvataggio In cloud E poi ci salutiamo Giusto Perché se no Io torno a casa E questa playstation Non la vedo più È vero È vero È vero Quindi Sì si ha fatto anche un video Per aiutarmi Ma al di là di quello Parlo proprio del fatto Che c'era una cosa da fare E questa cosa da fare Era molto interessante Cioè aggiungeva Delle curiosità E poi siamo passati Da il glitch di Gascoigne A boh Guarda sto boss nuovo Chissà quanti ce ne sono Cioè a questo punto c'è Ci comincia a credere Che quel boss finale Possa essere cut content Non so in che forma Lo sfideremo Magari in una fight rotta Eh ti prometto Che questo non è L'unico boss cut Che combatterai Eh me lo immagino La cosa fighissima È che il cuore Di questi ragazzi Negli anni L'han tirato fuori E messo nel gioco E poi su Playstation 4 e 5 Giocare Madonna mia Devastante Grazie per la compagnia Buona serata Grazie a te Grazie a te Esatto Per me è quasi ora di cena Quindi adesso raggiungerò Gli altri Che mi stanno aspettando Più che altro Mi prenderò il mio tempo Per come scrivono in chat Devo sloggare Tutti gli account Twitch Playstation Quindi mi ci vorrà Ancora un pochino Prima di andare via Maestro La ringrazio infinitamente Per il lavoro Se tu domani streami Eh sì Domani sabato no Sabato Ok Allora estendo anche ai tuoi L'invito Alle 14 Alle vostre 14 Credo No forse un po' di più Noi iniziamo alle 11 No alle 16 Alle vostre 16 Per il comité di Red Bull Domani ci sono le qualificazioni Per l'italiano Quindi O la 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 spacca Wow E poi purtroppo domenica Vi ricordo che non ci vediamo Oh si è spenta ora la cam Godo E poi vi ricordo che non ci vediamo domenica Perché C'è sempre il comité Ma questa puntata L'abbiamo recuperata martedì Ti ricordi Quindi Insomma Non è mal di nulla Perché abbiamo fatto Le nostre due puntate di Bloodborne Io provo a riaccenderla Giusto per salutarvi Bene Stupendo Amici miei Saluto il maestro Alla prossima Vado A fare cena Baci Ciao Ciao caro Ragazzi Io non ho cenato Ancora Sono affammatissimo Com'è andata Com'è andata Com'è andata Com'è andata Com'è andata Fatemi sapere com'è andata Vi è piaciuto Log tu che sei molto appassionato Fammi sapere Cioè Com'è andata ragazzi Il New Game Plus Vi sta piacendo Io ci tengo tantissimo A fare bene Per me ogni supporto È What the actual Fuckery fuck Sono sempre stati qui E attraverso Questo che spero di Darvi anche soddisfazione Bene 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 Signori Alla prossima Adesso Sappiate che ho aggiunto Alla schedule Per poter stare Nella finestra Una notte in bianco Di lavoro Di però Divertimento Perché Registro Comunque Per poter poi Nei giorni Andare in full immersion Di anima oscura Quindi Mangio E continuo Baldur's Gate Final Fantasy 7 Rebirth Fino a che Il corpo Mi dice Dormi che devi andare in palestra La mattina Presto Va bene Grazie Sono bellissimamente Sono tantissimamente contento Che vi sia piaciuta Buonanotte Ho veramente Tanta fame Tanta Tanta fame Certo che si può finire Bloodborne senza morire Anzi Forse Bloodborne Quello È sorprendentemente Non così difficile I souls Sono a volte più difficili Nel non morire Paradossalmente A presto ragazzi A presto Settimana prossima Demo della Arctrons Settimana prossima Demo della Arctrons Ok Oh yeah Alla prossima Fight Alla prossima